Buongiorno a tutti con un po' di ritardo e con tempistiche un po' più italiane che europee. Cominciamo il nostro bellissimo incontro di oggi che sarà il tentativo appunto di fare una sintesi, di operare un confronto di fronte a quella che è una delle più titaniche, importanti, delicate sfide dell'Europa di oggi e dell'Italia di oggi, ovvero adattarci e adattare i nostri vecchi paradigmi e modelli organizzativi al nuovo mercato del lavoro che si sta plasmando anche e non soltanto appunto per l'ingresso, il prepotente ingresso della transizione e della rivoluzione digitale all'interno del nostro ecosistema lavorativo ma soprattutto anche sulla scorta di quelle che sono state le elezioni della pandemia, di questo terribile stress test che ci ha costretto a fare un salto quasi quantico in tempo molto rapido proprio per proteggere i nostri modelli produttivi, per proteggere il funzionamento della nostra macchina privata e statale in un momento in cui non era così scontato che riuscissimo a garantirne la continuità e la vivenza e io non posso che ringraziare di vero cuore quello che è non soltanto un punto di riferimento per me ma è anche un carissimo amico Marco Carlo Magno, segretario generale della Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche FLP e della Confederazione Indipendente dei Sindacati Europei perché se questo appuntamento oggi qui nella prestigiosa sede istituzionale del Parlamento Europeo ha preso vita è proprio perché da anni abbiamo un bellissimo rapporto di scambio continuo di reciproco stimolo e contaminazione su queste tematiche e perché ci siamo resi conto che c'è l'esigenza di avere un'Italia protagonista in questo sforzo europeo e c'è soprattutto perché abbiamo non soltanto da apprendere, da ispirarci rispetto a quelli che sono i trend su cui sta già riflettendo la Commissione anche sul nutrito calendario di atti legislativi che stiamo affrontando in questo ultimo scampo di legislatura ma credo che abbiamo anche dei modelli importanti da poter condividere delle esperienze, dei case studies diremmo a queste latitudini che vogliamo offrire in questa importante riflessione proprio qui al Parlamento Europeo a tutte le istituzioni europee. Abbiamo un panel di grandissimo livello oggi qui con noi che arricchirà la nostra discussione a partire ovviamente dal Presidente Danzi di Associazione Fior di Risorse, dal Professor Antonio Leonardo Fraioli dell'Università di Tor Vergata che è professore ordinario di diritto del lavoro nella mia facoltà, lo rivendico anche questo con grande nostalgia e effetto per i bei tempi dell'università. Ancora il dottore Andrea Glorioso che ci ha raggiunti proprio dalla DG Occupazione Affari Sociali e Inclusione della Commissione Europea e vorrei ringraziare pubblicamente il commissario Nicola Schmidt con il quale manteniamo un rapporto costante appunto di scambio che è sempre estremamente disponibile, avrebbe voluto essere presente qui con noi, purtroppo impegni istituzionali lo costringono a essere in Germania oggi fisicamente ma ci ha mandato i suoi saluti, il suo incoraggiamento e la promessa di ritrovarci molto presto anche per raccontargli il follow up dell'incontro di oggi ma direi che eccezionalmente rappresentato appunto dal dottor Glorioso oggi che ci racconterà ovviamente anche qual è non solo il punto di vista ma il piano di lavoro operativo della Commissione di qui a quest'ultimo anno prima delle elezioni appuntamento in cui ovviamente il peso delle politiche del lavoro sarà uno degli argomenti assolutamente centrali nel dibattito e nel lagone politico europeo. Ringrazio anche appunto il dottor Giancarlo Pittelli che è responsabile della riorganizzazione di FLP e anche il dottor Roberto Reale economista del lavoro e dell'innovazione qui con noi che peraltro presenterà anche la sua ultima fatica scientifica molto importante dimensione dello smart working avremo modo insomma di parlarne anche durante questa giornata e tutto sarà condotto dalla saggia guida della dottoressa Stefania Zolotti come nostra moderatrice che è anche direttrice responsabile di Senza Filtro che è uno dei appunto delle pubblicazioni di riferimento nel mondo del lavoro del nostro paese e qui con me non poteva mancare una grande amica e un nostro pilastro della delegazione europea che è Mariangela Danzi mia collega al Parlamento europeo che ha tanto da dire in particolare sulla quello che è il funzionamento corretto i modelli virtuosi della funzione pubblica essendo stata nella sua lunga e prestigiosa carriera prima di cominciare anche questa nuova avventura al Parlamento europeo segretario comunale che non soltanto appunto ha in città capoluogo di regione importantissime come Firenze come Genova prima ancora l'era stata a Brindisi a Verese ma addirittura anche nella città metropolitana di Roma quindi ha potuto toccare con mano anche questo difficile passaggio di un'organizzazione del modello delle città metropolitane e quindi ci tenevo tantissimo che potesse essere qui con noi per darci un ulteriore spunto anche perché opera in commissioni particolarmente centrali in questo sforzo penso in particolare alla commissione ambiente che in questo momento è sottoposta e salute che sottoposta a un formidabile anche qui sfida di riconversione in parte derivanti appunto dai dall'impatto sistemico che ha avuto il post covid anche nella nostra difficile ripartenza ma anche la commissione ambiente dall'intero pacchetto del grindile della sfida della appunto della transizione ecologica che come sapete transizione gemella rispetto a quella digitale le due simul stabunt e simul cadent sono parallelamente in questo momento le due rotaie dello stesso binario attraverso il quale stiamo cercando di plasmare il futuro europeo. Tanti sono i temi che dovremmo toccare. Mi viene giusto di dare qualche spunto prima appunto di aprire la nostra tavola rotonda, la nostra riflessione anche con dei contributi video eh che abbiamo raccolto innanzitutto i trend demografici. Siamo un continente che sta invecchiando in modo purtroppo molto marcato e noi siamo la punta di questo iceberg. Siamo uno dei paesi che più sta soffrendo un declino, un inverno demografico qualcuno lo ha lo ha definito appunto in questo modo e ovviamente eh tutto questo non può che avere un impatto molto significativo sia sui modelli di lavoro ma anche sulla tenuta dei nostri sistemi previdenziali a medio e lungo termine. Siamo anche però un paese che allo stesso tempo ha delle difficoltà di riperimento, una difficoltà anche di assunzione per via del tema della formazione che sarà anche qui oggi sviscerato molto bene. L'Italia secondo i dati euro stati del duemila e ventidue ha una quota di circa il venti per cento. È uno dei paesi purtroppo fanalino di coda. Siamo penultimi appunto rispetto a scavalcati in questa triste classifica solo dalla Romania e con una media che è ben sette punti al di sotto eh della nostra percentuale eh attuale. In un mercato invece in cui al contrario sempre di più è elevata la richiesta di una specializzazione molto puntuale e quindi si creano degli ulteriori colli di bottiglia proprio per i nostri giovani emergenti nel affacciarsi appunto al mercato del lavoro eh così come si pone anche la sfida di riconvertire, di riformare, di arricchire di competenze chi per via dei nuovi modelli produttivi anche legati alla rivoluzione della dell'automazione, della robotica ha perso magari il suo posto di lavoro in un settore che ormai sta diventando anche qui ad alta automazione e ha bisogno di un reskilling, di un upskilling eh importante per poter trovare poi un'altra occupazione e potersi rinserire attivamente nel mercato del lavoro. Ovviamente c'è tutto il tema ma l'abbiamo sviscerato anche qualche mese fa con un interessante studio di Deloitte della carenza eh sistemica di figure ehm diciamo esperte nelle discipline STEM che invece stanno sempre diventando un po' un pilastro appunto di questa rivoluzione della anche dell'industria 4.0 e non solo abbiamo anche qui la necessità di regolare in modo equilibrato l'intelligenza artificiale adesso come sapete il Parlamento europeo ha di recente votato la sua posizione sul eh AI Act sul lato sull'intelligenza regolamento sull'intelligenza artificiale sappiamo però che ovviamente questo lungo percorso adesso ah vedrà il confronto in trilogo con il con il Consiglio e la Commissione ma abbiamo bisogno anche qui di riconfermare un ruolo europeo deciso come grande potenza regolatoria. Ci siamo riusciti secondo me in modo molto efficace con il GDPR e questo modello è stato copiato poi da molti paesi in giro per il mondo e mi permetto di dire non solo per accedere al mercato europeo ma anche perché si è rivelato un equilibrio vincente è una saggia contemperazione di interessi e quindi eh altro ha un saggio punto di caduta adesso spero appunto che con l'atto sull'intelligenza artificiale riusciremo a ripetere questo successo e quindi a trascinare verso la nostro potere attrattivo regolatorio anche altri attori molto importanti al fine di ovviamente eh governare non subire i processi di innovazione tecnologica ma abbiamo ovviamente anche tante altre eh direttive regolamenti che si incastrano in questa sfida penso alla platform workers directive anche qui eh abbiamo vediamo insomma che il Consiglio di recente ha raggiunto una posizione eh specifica in questo senso eh per evitare che appunto i lavoratori delle piattaforme abbiano stato soccupuzionale inferiore rispetto a quello che avviene con la mancanza rispetto appunto all'attuale mancanza di protezione piena che accade invece per altri settori abbiamo ovviamente la European Digital Identity ieri abbiamo avuto un confronto interessantissimo col direttore generale Viola che ringrazio anche qui in questa sede per aver voluto eh dedicare a noi un tempo così importante e significativo nella sua agenda proprio eh per garantire che ci sia anche qui una piena interoperabilità dei sistemi tra i vari paesi europei eh a servizio del mercato del lavoro e non solo a servizio di una sburocratizzazione che poi parta crescita occupazione e velocità e abbatte quindi costi inutili consentendoci di liberare risorse importanti proprio per le sfide che stavamo dicendo c'è il tema del lavoro eh ovviamente da remoto lo smart working che non può vedere oggi una regressione dopo quanto è stato fatto eh in regime emergenziale ma con grande consistenza durante eh eh la pandemia e ancora ovviamente un tema a noi particolarmente caro non può che essere quello del salario minimo adeguato in tutti i paesi dell'Unione perché se c'è un ambito in cui effettivamente l'Italia oggi sconta una difficoltà è proprio vedere la disparità salariale che c'è rispetto a questo clivaggio questo gap molto importante che c'è rispetto ad altri paesi e questo determina anche una ehm qualcuno magari lo vede come uno strumento facile per guadagnare competitività io dico che invece al contrario è forse una delle cause principali della nostra perdita di competitività perché i migliori talenti i ragazzi più brillanti innovativi sono chiaramente attratti da offerte e condizioni di lavoro sia salariali sia complessivi anche del welfare del funzionamento di altri stati europei ed extra europei che quindi ci privano di quella futura classe dirigente che dovrebbe essere quella capace di trainare e traghettare il paese in modo eh forte verso eh un un futuro un orizzonte appunto temporale dove eh i mercati sempre più aperti interconnessi creeranno sempre maggiore appunto competitività e sempre maggiori sfide da poter vincere per essere ancora all'altezza eh della nostra grande tradizione di paese un po' campione dell'innovazione della creatività e e quindi capace di eh attrarne piuttosto che insomma di di perdere eh queste eccellenze io non mi dilungo oltre perché credo di aver messo sul tavolo molti elementi per dare qualche stimolo ai nostri eh valenti eh oratori e a questo punto se siete d'accordo insomma dopo questa breve carrellata eh di introduzione darei la parola con grande piacere al mio amico Marco Carlo Magno eh per dargli la possibilità di ulteriormente mettere eh degli stimoli sulla tavola rotonda ai nostri oratori e per eh raccontarci un po' qual è anche l'aspettativa eh del quello che sarà il follow up di questo importante eh evento che ripeto non vuole essere fine se stesso ma vuole creare un contributo molto forte e nel processo di elaborazione del quello della policy making europea tanto più e lo aggiungo proprio in chiusura che grazie alla spinta di Marco si è costituito di recente un gruppo di monitoraggio permanente di studio sull'innovazione l'organizzazione della trasformazione del lavoro eh agganciato appunto al lavoro eh a quanto svolto da FLP in questi anni che vede un parterre di eh docenti universitari di esperti veramente di primissimo rilievo e noi speriamo appunto che possa essere un valido supporto aiuto proprio per la eh per la DGM per la Commissione Europea tutta nell'affrontare eh le sfide di questo ultimo scampo di mandato e anche del mandato futuro Marco a te la parola eh grazie eh grazie ancora Fabio Massimo per eh Castaldo per eh questo invito eh è importante eh ripeto parlare porsi eh nella visione in una visione di futuro il futuro è già eh presente eh non c'è eh da attendere ulteriormente e questo è per questo è necessario abbiamo costituito un gruppo eh di monitoraggio e di studio che attraversa eh proprio tutte le varie fasi dei eh dell'innovazione che si è già verificata e soprattutto vuole essere anche un valido contributo e un valido supporto anche ai vari decision maker e quindi sia nell'ambito italiano sia nell'ambito europeo perché soprattutto in Europa ehm vengono eh prodotte tutte quelle direttive a cui poi i vari stati membri si devono adeguare eh in termini di intelligenza artificiale ultimo eh in termini di identità digitale ne abbiamo parlato ieri col Digi Viola ehm ma anche in termini proprio di dignità del del salario di dignità di ingresso voglio dire eh dei giovani nel mondo del lavoro anche per superare quella frattura generazionale che si è creata io in questo mio primo intervento eh mi limiterò proprio a dare questo quadro proprio sul eh sulla 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 visione e sui compiti ehm che che ci siamo dati eh coinvolgendo appunto eh i maggiori esperti del mondo del lavoro delle relazioni industriali docenti universitari di prestigiose università eh qui è presente poi ci parlerà proprio di tutta questa rete eh di università che abbiamo avuto il piacere di vedere coinvolte quindi normalmente il mondo universitario è un mondo chiuso e invece l'abbiamo visto partecipe proprio a contribuire e a far uscire anche le varie ricerche scientifiche quindi eh sui sui media ed è per questo che eh abbiamo coinvolto politici abbiamo coinvolto manager pubblici e privati professionisti imprenditori giornalisti i giornalisti che hanno un compito importante sia per l'input nell'ambito delle varie ricerche che ovviamente poi verranno analizzate in maniera rigorosa dal punto di vista scientifico ma anche sia per l'output perché eh il compito del nostro e anche oggi della società civile è quella di far uscire ricerche che molto spesso rimangono negli ambienti no ovattati accademici oppure rimangono anche quelle ricerche che vengono svolte anche egregiamente anche in ambito parlamentare che proprio rimangono lì come tecnicalità che poi non si realizzano per decisioni o indecisioni politiche ehm ancora quindi tutti potranno contribuire a questa a questa a questi studi a questo monitoraggio delle best practice che non sono solamente in ambito italiano non sono solamente in ambito europeo ma andremo a investigare anche il mondo eh degli Stati Uniti ma il mondo anche di tutte le economie emergenti a partire dall'India a partire anche dall'Australia abbiamo ricerche eh dell'Australia meridionale che sono estremamente interessanti su questo tipo e quindi eh creiamo creiamo rete ecco fare rete le ricerche oltretutto avranno una carattere multidisciplinare quindi nell'ambito di mh andremo a analizzare le tematiche del mercato del lavoro quali rivisitazione delle categorie giuridiche delle tutele lavoristiche oggi il lavoro non è più il lavoro in azienda o esclusivamente in azienda è quello dei cinque giorni ehm in esclusivamente in ufficio ma è soprattutto anche non solo quello ma è anche il lavoro delle collaborazioni continuative delle partite IVA monocommittenti di la altri lavori che sono molto simili alla schiavitù no del del ventunesimo secolo e hanno molto poco di lavoro bene tutto questo su questo andremo a investigare per offrire anche dei contributi da un punto di vista normativi anche ai legislatori ma anche per monitorare per far sì che anche eh la politica e anche voglio dire il gli altri gli altri strumenti eh del investigativi si assumano anche la responsabilità di non chiudere gli occhi di fronte a vere proprie a vere proprie dico negligenze negligenze che sono un impoverimento totale eh del paese andremo ancora a investigare nuovi modelli organizzativi del lavoro nuovi modelli organizzativi non c'è solo il lavoro agile eh per capirci il lavoro eh il lavoro eh da remoto il lavoro ibrido no? Tutte le varie declinazioni ma c'è anche e soprattutto il discorso della riduzione i tempi e la qualità del lavoro è la settimana quattro giorni abbiamo tanti esempi anche in ambito europeo si è chiusa eh la ricerca nel in Gran Bretagna si sta svolgendo in questo momento la ricerca a Valenza e terminerà il quindici luglio dove si sta sperimentando la settimana quattro giorni ma si è fatta in Belgio in Germania eh in Spagna in altre città della Spagna in in Francia ecco tutti questi aspetti saranno investigati soprattutto anche in termini della qualità del lavoro qualità che poi è quella che determina un'altra delle parole strane o poco sconosciute se non sconosciute nella pratica del benessere organizzativo che non è un un il secondario no ma che diriva proprio dall'organizzazione quanti oggi uno degli aspetti problematici è proprio quella dell'ambiente tossico dell'ambiente male organizzato quando si parla di produttività eh l'Italia è quella che ha avuto negli ultimi trent'anni è l'unico paese eh che ha avuto una riduzione addirittura del tre per cento dei salari eh gli altri hanno avuto una crescita in media del trenta beh è un problema di la produttività non può essere quella che serve ad avere salari schiacciati verso la povertà o la schiavitù ma è un problema proprio di mentalità organizzativa e questo deriva dai datori di lavoro dalle aziende molto spesso impreparate nuovi tipi negoziali vanno studiate queste nuove forme negoziali per poter prevedere ad esempio anche eh il lavoro su piattaforma che non è un lavoro su piattaforma solo quello dei rider no dell'intelligenza ma deve essere e e sarà anche soprattutto un ambiente nuovo modelli di lavoro diversi soprattutto per le professioni eh più a maggiore tecnologia c'è il problema della rappresentanza sindacale avere delle norme chiare eh su questa su questa tipologia eh formazione e valorizzazione della persona innovazione digitale e sostenibilità ambientale riorganizzazione produttiva aziendale a partire dalla situazione italiana che soprattutto al novantacinque per cento parliamo di micro e piccole imprese che hanno un grande problema se la politica non fa qualcosa di diverso che non sono in grado di fare ricerca negli altri stati del mondo la ricerca viene finanzata dallo Stato ma eh questo vale ripeto non solo in Europa non solo negli Stati Uniti vale in Sud Corea e noi abbiamo ricevuto una delegazione proprio di eh sudcoreani eh quindici giorni fa e ci spiegavano che anche per i grandi colossi no della della ricerca e parte della tecnologia dell'innovazione la ricerca quello che utilizzano e soprattutto una ricerca che deriva dalle università che deriva anche dal pubblico quindi da investimenti ingenti che lo Stato svolge per poter promuovere per poter avanzare. Non solo se questo ma siccome sono stato anch'io in Corea del Sud di recente l'anno scorso se mi permetti Marco vorrei ricordare una cosa che anche la definizione stessa di piccola media e micro imprese totalmente diversa nella nostra concezione italiana rispetto a quella che è una media europea. Noi ci siamo sforzati da nove anni a questa parte in tutti i dati legislativi di mettere sempre la definizione che fosse il più possibile calzante perché devo dire che per tanti colleghi tedeschi ad esempio un'impresa di cinquanta addetti è una piccola impresa. Da noi è oltre la media eh diciamo una media grande ecco proprio per far capire anche la differenza di percezione e il difficile lavoro di sintesi che si deve fare a livello europeo per trovare un modello equilibrato per tutti che non falsi la concorrenza e che non metta sullo stesso nastro realtà magari di quattro cinque addetti con realtà di cinquanta che hanno ben altri mezzi disponibilità ecco scusami per questa piccola intusione. Assolutamente sei stato molto 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 preciso e questo è difficile da spiegare ed è difficile eh secondo me è compito anche della di un cambio proprio di paradigma culturale di costruire reti di sviluppare e di incentivarle perché non si compete sul mercato ma soprattutto non si va non si fa innovazione se si pensa di continuare a competere con gli stati la Cina volendo continuare a produrre al si è sempre fatto così no continuiamo a produrre le t-shirt bianche no senza eh eh quella quell'innovazione quella quel valorizzazione anche della nostra eh essere uno stato di manifattura di trasformazione di innovazione beh non andiamo avanti altri aspetti ripeto quindi conciliazione vita lavoro è inutile eh parlare quiet quitting no eh accorgerci voglio dire quello dell'abbandono e molto spesso non solo abbiamo le grandi dimissioni ma abbiamo anche l'abbandono intellettuale quello se non sono valorizzato io alla fine mi limito a fare quello per cui sono pagato eh noi invece siamo abituati a sfruttare no rispetto e poi pensiamo non abbiamo al primo punto l'engagement è un'altra delle parole sconosciute invece che dovrebbe essere a partire da proprio da quelle pubbliche amministrazioni che invece ce l'hanno proprio in costituzione no quello di essere al servizio esclusivo della nazione altro aspetto gravissimo il gender gap che noi andiamo ad affrontare compiutamente nell'ambito delle nostre ricerche perché eh in termini e e soprattutto dal punto di vista il gender gap non è eh le quote rosa è proprio cambiare il modello organizzativo perché eh i tempi delle riunioni no quelle che tendono ad escludere di per sé le donne no il discorso anche in termini di pill quanto no se coinvolgiamo voglio dire nell'ambito delle attività produttive eh quelle che stiamo immarginando no quanto crescerebbe il PIL ecco proviamo a dare anche dei dati di ricerche scientifiche divulgate come cambia come cambiano gli aspetti come cambia il paese come possiamo rilanciare il nostro paese l'impatto dell'intelligenza artificiale lo dicevo è prima l'intelligenza artificiale noi continuiamo eh a volerla no si continua anche sui media a volerla ignorare o eh opporsi ecco l'intelligenza artificiale va avanti dobbiamo governarla dobbiamo gestirla dobbiamo avere anche nell'ambito della formazione persone preparate se non c'è una formazione continua a partire a partire dai docenti ma docenti parlo sia delle scuole sia anche quelle come ci diceva ieri Viola ormai è l'università la scuola dell'obbligo per poter no avere una transizione efficace nei confronti delle delle nuove delle nuove tecnologie e delle innovazioni ma dobbiamo ma continuo a dire anche dei diplomi quindi è un diverso modo noi abbiamo eh dei nativi digitali la frattura digitale che dei nativi digitali le nuove generazioni che magari sono bravi ad utilizzare anche i TikTok ma non sono in grado di utilizzare l'innovazione digitale nell'ambito dei rapporti voglio dire con società private o con pubbliche amministrazioni anche perché non ci dimentichiamo che molto spesso quei famosi algoritmi o quei sono sconosciuti sono basati su una riproposizione di merci non di persone eh c'è una carenza di merci e allora noi mandiamo i primi in graduatoria no nella scuola li mandiamo dove è il posto più carente gli ultimi abbiamo compensato quella carenza di merci no come se fossimo a un supermercato li mandiamo magari nel luogo di origine e dovremmo gli algoritmi devono essere trasparenti dobbiamo renderli chiari e e questo è importante per cui è importante conoscere ma dicevo anche la formazione noi chat no voglio dire le tutte le varie chat di intelligenza artificiale dobbiamo conoscere governarle e come possano essere di aiuto quindi l'intelligenza umana perché è l'uomo ancora quello che è dotato no del termine dell'intelligenza come può usare queste nuove tecnologie per realizzare ancora qualcosa che sia al centro quindi un lavoro che abbia ancora al centro la persona che venga ancora quindi essere di ausilio non abbandonarsi a se stesso ma se i nostri docenti sono impreparati a formare se si limita ci si limita a proibire no dal telefonino ad altro e invece di spiegare come può avvenire ci sono tanti tanti che hanno che utilizzano anche il vituperato no tik tok per spiegare come si la fisica e ci sono professori che riempiono palasport no spiegando queste cose oppure puoi spiegare la divina commedia oppure che proviamo a spiegare anche in ambito sintetico no semplice immediato ai giovani che cosa vuol dire anche lo studio la formazione l'importanza di dell'utilizzo e non dimentichiamoci che però devono essere anche prima di tutto aziende e pubbliche amministrazioni che non si affidano a tecnici che scrivono anche i programmi o i siti internet per gli ingegneri informatici che li hanno creati e che non siano invece user friendly da parte dei cittadini e perché questo è un altro degli aspetti le pubbliche amministrazioni le aziende delegano a terzi ma invece dovrebbe essere un qualcosa di estremamente integrato voglio dire nell'ambito della visione della visualizzazione e della reputazione che l'azienda deve avere in un rapporto diretto con i cittadini e per terminare sicurezza sul lavoro e sicurezza informatica ovviamente sono centrali in un in un mondo sempre più globalizzato e in cui le guerre no voglio dire avvengono anche e soprattutto con gli attacchi informatici e per finire fisco e previdenza sociale perché noi ancora finanziamo spendiamo di più per finanziare quindi da un punto di vista fiscale quindi con le risorse fiscali la disoccupazione e non l'occupazione quindi non creiamo agevolazioni no per aziende o per amministrazioni che hanno quindi per continuare a stare sul mercato o per anche mantenere quelle produzioni che sono magari poco convenienti hanno minori margini ma sono strategiche ce ne siamo accorti per esempio con le mascherine no o con i dispositivi medici durante la pandemia ma dico ancora ce ne stiamo accorgendo con la produzione di medicinali che sono importantissimi antirabbica antitetanica che sono introvabili perché hanno i margini brevetti scaduti ma che servono per la vita bene per quale motivo il gli stati non debbano finanziare queste anche una defiscalizzazione dei salari per capirci una parte di defiscalizzazione dei salari per mantenere la produzione strategica in italia perché è importante che nei singoli stati ci siano questi prodotti e non ci affidiamo a una delocalizzazione quindi geografica quindi per per settori merce logici ecco potrebbe essere un discorso importante invece di mandarli e di farli chiudere poi pagargli la cassa integrazione può essere molto più conveniente defiscalizzare d'altronde noi operiamo anche sul discorso del fisco e non capiamo non capiamo per quale motivo no si possa accettare o proporre voglio dire regimi diversi no di fiscalità tra persone regolarmente sane no quindi ci possa essere un 10,9 per cento di tassazione per chi arrivi a 85.000 a 100.000 euro e poi non possiamo invece defiscalizzare andando incontro a un reddito io uso un termine ancora di più rispetto al reddito minimo al salario minimo a un salario minimo netto in tasca al lavoratore perché è questo il discorso e questo può essere attuato su una defiscalizzazione io decido una che quella è una produzione strategica beh oltre alla golden share che adesso è stata attuata ed è stata richiesta dal governo italiano può essere fatta anche per settori prodotti e poi per finire la previdenza e qui è un altro degli aspetti di questa ricerca dicevo la ricerca analizzerà tre macro aree golden power e si golden power scusa golden golden power eh parlavo di eh giuridico aspetto giuridico aspetto socio economico aspetto di sostenibilità guardate bene la sostenibilità che non è solo quella ambientale la sostenibilità è uno degli aspetti e poi ne parleremo ovviamente nei successivi interventi che quello che a salari poveri a salari a precarietà nel mondo del lavoro al lavoro a intermittenza non corrisponde esclusivamente quindi un impoverimento ovviamente delle persone e ovviamente una difficoltà no anche di poter avere la creazione di nuclei familiari e che vuol dire anche la natalità no perché è un altro degli aspetti noi parliamo di denatalità senza occuparci poi della possibilità no in maniera responsabile che questa avvenga eh sì eh ma dico anche un altro aspetto corrispondono pensioni povere che già oggi sono povere ma ancora di più ma soprattutto corrisponde un impoverimento generale del paese perché i nostri migliori talenti ripeto sole ventiquattro ore lo ha ripetuto e in maniera eh lo diciamo da da tempo noi abbiamo sei milioni di italiani iscritti all'aere dall'otto al quattordici per cento dei nostri laureati ogni anno va via dall'Italia e questo corrisponde con cinque milioni e ottocentomila di quelli che chiedono i grandi datori no di lavoro anche confindustriali di avere per cinque mesi i raccoglitori no voglio dire delle prodotti dei prodotti agricoli oppure chiediamo importiamo badanti eh colfe ed altro ma questo vuol dire impoverire il nostro paese noi stiamo impoverendo il paese perché noi abbiamo formato questi giovani questi talenti invece di produrre di garantire no la nostra la nostra la nostra il nostro paese quindi la nostra innovazione noi li mandiamo li costringiamo ad andare via mi fermo qui eh diamo poi il per il dibattito poi avremo modo successivamente di ritornare su questi aspetti grazie grazie di cuore caro Marco direi di lasciare la conduzione dei lavori nelle sapientissime mani della nostra Stefania Zolotti e suggerirei magari di cominciare proprio eh con un intervento appunto di analisi anche di punto della situazione di state of the art eh su quello che è il canale di lavoro anche della eh commissione in questo momento in particolare del commissario Smith al dottore Andrea Glorioso che so che poi a un certo punto dovrà lasciarci per altri impegni istituzionali e quindi se senza ulteriorità direi appunto Stefania che forse comincere insomma dovremmo cominciare da proprio dal dottore Glorioso grazie grazie per questa introduzione un saluto a chi ci sta ehm seguendo qui direttamente dal Parlamento Europeo ma anche per chi è collegato in diretta in streaming in questo momento con noi passerei volentieri la parola ad Andrea Glorioso che è funzionario appunto alla Commissione Europea alla DG Occupazione Affari Sociali e Inclusione diciamo ci siamo un po' confrontati prima di questo intervento per capire un po' nel vivo a che punto siamo con la Commissione che ricorda essere in scadenza nel senso comunque siamo un po' nella fase conclusiva della sua della sua ehm vita diciamo fisiologica in attesa della successiva e ci siamo anche interrogati sul tema dei dati e delle persone perché non possiamo parlare di lavoro oggi e ridurci soltanto a un concetto di futuro che è una parola spesso abbastanza fuorviante perché il futuro ci sposa sempre un po' in avanti e ci fa dimenticare magari i modelli da cui il mondo del lavoro arriva e le logiche da cui dobbiamo transitare se vogliamo mettere in campo dei cambiamenti. Quindi Andrea Glorioso dati ma anche persone forse in questo crinale che dobbiamo cominciare a interrogarci oggi quando si parla di lavoro. Grazie mille buongiorno a tutti e vorrei ringraziare l'onorevole Castaldo e gli organizzatori di questo evento per aver invitato la Commissione Europea porto anche i saluti ehm molto cordiali del commissario Schmidt che avrebbe veramente voluto essere ma come è stato ricordato purtroppo aveva altri impegni istituzionali quindi temo che vi dovrete accontentare di me e per per rispondere o per per rispondere allo stimolo che che è stato dato e poi forse anche per delle due parole sul calendario della Commissione come è stato chiesto che e sì una Commissione forse non la chiamerei Commissione Scadenza perché abbiamo ancora un po' di di mesi e un paio d'anni avanti però è oggettivo e penso che sia lecito riconoscere che eh siamo diciamo abbiamo superato la metà della fase di vita della Commissione quindi in questo momento è come è stato ricordato anche dalla Presidente ma come credo ci sia accordo tra tutte le istituzioni e il momento diciamo di se posso utilizzare una metafora forse un po' popolare di tirare il remi in barca e di chiudere quello che è ragionevole chiudere prima della fine di questa legislatura e l'inizio della prossima dopo le elezioni eh del Parlamento europeo del maggio duemila ventiquattro ora per tornare sulla questione di dati e persone e effettivamente io credo che sia molto importante quando affrontiamo questi temi che sono stati toccati dai relatori precedenti che credo abbiano toccato abbondantemente tutti quelli che sono i temi centrali delle riflessioni dell'azione della Commissione credo che sia sempre molto utile molto importante tornare un po' alle radici eh interrogarci su quelle che sono le basi di ciò che facciamo del perché lo facciamo e di quali sono i nostri obiettivi e senza voler spendere troppo troppo tempo però io amo sempre quando ci sono questo tipo di dibattiti eh ricordare che come sapete l'Unione Europea esiste sulla base di trattati non le possiamo chiamare costituzioni per molti motivi però fondamentalmente danno un tenore costituzionale a ciò che facciamo a ciò che abbiamo il dovere di fare e se noi andiamo a guardare l'articolo 3 trattato dell'Unione Europea e l'articolo 3 definisce in maniera molto chiara quelli che sono gli obiettivi dell'Unione Europea e tra questi obiettivi c'è lo sviluppo sostenibile c'è il raggiungimento della piena occupazione c'è la creazione di un'economia sociale di mercato competitiva e questo è un punto eh che io avendo passato quattro anni come diplomatico negli Stati Uniti amo sempre sottolineare è un'economia sociale di mercato competitiva quel sociale non è messo lì a caso come nulla di quello che nei trattati fondanti dell'Unione Europea se noi prendiamo questo ci sono anche altri obiettivi ovviamente ma non leggerò tutto l'articolo 3 eh del trattato se noi teniamo a mente questi obiettivi a quel punto la domanda eh o la questione dati o persone vengono prima i dati o le persone io credo che sia assolutamente innegabile eh che non si possa dibattere che vengono prima le persone vengono prima le persone che ciò si declini nella come cittadini europei o nel caso specifico come lavoratori all'interno dell'Unione Europea e quindi tutto quello che noi facciamo eh in ambito di innovazione digitale in ambito di protezione dei dati deve avere quello come obiettivo la protezione della dignità dei lavoratori la creazione e la promozione di questo eh dell'occupazione eh della piena occupazione che ripetisco eh non è banale che ci sia un termine come piena occupazione nei trattati dell'Unione Europea non 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 esiste in tutte in tutti i trattati fondanti o in tutte le costituzioni del mondo e quindi se prendiamo questa prospettiva io credo che sia poi ovviamente io sono eh non sono oggettivo non sono neutro sono un funzionario della Commissione Europea e credo che ci sia scritto anche nel mio contratto di lavoro che devo rappresentare eh le posizioni della Commissione Europea ma credo che sia oggettivo che se noi guardiamo certamente alle proposte legislative che la Commissione Europea ha messo in campo non da oggi l'onorevole ha molto correttamente credo ricordato la General Data Protection Regulation regolamento a protezione dei dati che effettivamente è un modello per il resto del mondo e non solo perché in questa maniera si può avere accesso al mercato dei dati europeo ma perché è un regolamento che è molto ambizioso e funziona e se noi andiamo a guardare il GDPR se andiamo a guardare la proposta di direttiva sul lavoro sulle piattaforme su cui non discuterò perché c'è una negoziazione in corso tra Consiglio e Parlamento quindi non è il mio ruolo adesso di discuterne se guardiamo all'Artificial Intelligence Act se guardiamo anche a molte altre iniziative legislative che la Commissione ha preso all'interno di quella che è la strategia di eh di per ciò che riguarda i mercati di lavoro e i diritti sociali che sono riassunte nel pilastro europeo di diritti sociali che rimane la nostra stella polare per quanto ed è ehm per essere chiari come sapete il pilastro europeo è un obiettivo strategico condiviso da Commissione, Consiglio, Parlamento e Stati membri e partner sociali. È uno dei documenti strategici più condivisi che esistono a livello di Unione Europea. In tutte queste proposte ne abbiamo sempre messo come priorità fondamentale le persone, i cittadini europei, i lavoratori europei. Al tempo stesso va anche riconosciuto, credo che sia importante riconoscere, che non ci possono essere lavoratori, non ci può essere pieno occupazione, non ci possono essere stipendi dignitosi, non ci può essere risposta a tutte le sfide che sono state molto correttamente sollevate dai 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 relatori precedenti. Mi piace sempre ricordare, essendo io uno di quei laureati che molti anni fa se ne sono dovuti andare dall'Italia a malincuore, ma semplicemente perché l'Italia purtroppo non offriva possibilità al livello che francamente io mi aspettavo dati i miei studi e il mio lavoro, tutte quelle sfide e altre. In tutto questo non dobbiamo dimenticarci che tutto ciò non è risolvibile senza competitività, non è risolvibile senza un'industria forte, non è risolvibile senza delle aziende efficienti, efficaci, non è possibile alzare i salari per decreto della Commissione o del Governo, o meglio è possibile, attenzione, ma non ha gli effetti che si possono sperare. I salari si alzano se c'è un tessuto produttivo economico che permette di innalzare quei salari e direi anche un quadro normativo che aiuti l'innalzamento di questi salari. Per tutto ciò occorre aumentare la produttività. Per aumentare la produttività o si fanno dei giochini matematici sull'equazione della produttività e si abbassano i salari, per essere molto diretti, oppure si investe in innovazione. Per investire in innovazione ci serve tecnologia. L'equazione, la logica alla fine della fiera è molto semplice, per noi è molto semplice. L'implementazione, l'analisi, l'implementazione eccetera, quella può essere più complicata. Però credo che dobbiamo partire da questo punto e quindi quando guardiamo alla questione dei dati delle persone la domanda è l'utilizzo dei dati tramite l'intelligenza artificiale serve ad aumentare la produttività? Ci aiuto ad aumentare la produttività e questa produttività ha poi una ricaduta positiva sui lavoratori? Se sì, come noi crediamo, con le dovute protezioni giuridiche, avanti tutta e facciamo quello che dobbiamo fare. altrimenti credo che dobbiamo anche avere il coraggio in alcuni momenti di mettere un freno, di dire va bene, forse questa direzione di sviluppo tecnologico non è la direzione che per noi come europei, come Unione Europea e cittadini dei stati membri dell'Unione Europea è la direzione più ideale. Grazie per questa prima risposta. Approfitterei, visti gli impegni che Andrà Glorosa, per approfondire ancora un altro concetto. Molto stimolante il chiarimento di prima di Fabio Massimo Cataldo sul concetto di piccola media impresa. Secondo me non possiamo portare avanti un gruppo di monitoraggio se non facciamo attenzione anche alle parole e alle ricadute che questi concetti culturali, economici e sociali hanno nel nostro paese. Faccio una riflessione legata anche a questa modalità spesso passiva dell'Italia di importare dei modelli organizzativi e faccio un esempio su tutti quello delle start-up che negli ultimi 15 anni hanno in qualche modo, anche qui prima si raccontava come sia stata usata anche impropriamente questa parola, di fatto sono nuove imprese, però poi la spinta delle start-up sembra che porti chissà cosa di nuovo. In un paese come il nostro che aveva un tessuto completamente diverso da quello californiano e statunitense da un punto di vista fiscale, bancario, economico, sociale e culturale del lavoro anche in termini di flessibilità rispetto ai fallimenti, rispetto alla natura fisiologica di una nuova impresa che mediamente sappiamo che è destinata un po' a fallire nei primi anni, primi mesi comunque di vita. Quindi mi piacerebbe un attimo questo confronto tra i deputati e glorioso per capire un po' anche questo rapporto delle start-up e quanto magari i giovani che noi associamo spesso a un concetto di innovazione e tecnologia di fatto sono capaci poi di portare trasformazioni nel mondo del lavoro. Ecco su questo ve ne occupate, un pensiero mi piacerebbe per aprire un po' e scaldare i motori di questa riflessione di oggi. Grazie, forse due parole sul tema. Il tema delle start-up io me ne sono occupato molto in precedenti posizioni che ho occupato nella Commissione Europea, in questo momento forse mi concentro più su altre questioni, però credo che sia lecito fare un paio di osservazioni, alcune osservazioni. La prima è che le start-up intese come, come è stato detto, creazione di nuove imprese è un'ottima cosa, fa parte di un tessuto economico vivo, produttivo e se non si creano nuove imprese, se non si dà la possibilità di creare nuove opportunità imprenditoriali abbiamo un problema, perché molto francamente i posti di lavoro non li creiamo, non è la Commissione Europea o quantomeno non ne creiamo in misura sufficiente per affrontare i problemi e le sfide di cui abbiamo parlato. Il settore pubblico è un datore di lavoro negli Stati membri, è un datore di lavoro importante, va riconosciuto, però va anche riconosciuto che non è possibile pensare ad un piano di sviluppo industriale ed economico esclusivamente sulla base di lavoro pubblico. Nel passato alcuni paesi ci hanno provato, non ha funzionato molto bene, quindi forse non è il caso di concentrarci solo su quello. Quindi posto che la creazione di nuove realtà imprenditoriali che si vogliono chiamare start-up in un altro modo è una dinamica positiva che va incoraggiata all'interno di un quadro regolatorio chiaro e coerente all'interno dell'Unione Europea nella misura del possibile. Va anche riconosciuto, come è stato suggerito, che credo gli ultimi dati che abbiamo raccolto perché abbiamo all'interno della Commissione un DG che si occupa di monitorare anche questi aspetti qua, se ricordo bene circa il 90% di tutte le nuove imprese, di tutte le start-up falliscono nei primi due anni di vita, due o tre anni di vita, è fisiologico. Allora io credo che sia importante quando ci si rapporta soprattutto ai giovani lavoratori o a chi è in fase di transizione tra educazione e lavoro, bisogna essere onesti, bisogna dire vuoi lanciarti in questa avventura, va benissimo, anzi in alcuni casi va anche incoraggiato, però attenzione ci sono dei rischi nel farlo. E strettamente collegato a questa realtà fattuale che è il tasso di fallimento medio delle start-up, noi vediamo solo i successi spesso e volentieri, vediamo le start-up che diventano milionari o miliardari, ma dietro a quei successi ci sono moltissimi fallimenti. Forse una riflessione che però ammetto fuoriesce un po' dal mio personale campo di competenze e dal campo di competenze di DG Employment, di DG Occupazione, dove lavoro, quindi lo citerò solo brevemente, occorre anche un quadro regolatorio che tenga conto di questa realtà del fallimento comune. In altri termini dobbiamo avere un quadro regolatorio per cui il fatto che una prima impresa fallisca non deve essere una sorta di lettera scarlata sulla persona sul giovane che poi da quel punto in poi ha difficoltà ad accesso al credito, ha difficoltà ad accesso ad altre opportunità e qui ci vuole un cambio regolatorio, ma anche culturale. In tutto questo io credo che sia anche molto importante sottolineare che al di là della questione della dimensione media delle aziende, che è stata molto ben sviscerata, bisogna ribadire che se vogliamo fare innovazione, ricerca e sviluppo non possiamo continuare ad avere il 95% di nano imprese a conduzione familiare. Lo dico senza voler entrare, non è il mio ruolo entrare nel dibattito italiano come funzionario della commissione, però da italiano ed avendo lavorato per quelle realtà, quelle nano imprese a conduzione familiare, non sono sostenibili, non sono sostenibili nel ventunesimo secolo per un futuro, per il tipo di sfide di innovazione che ci attendono. In tutto questo il punto su cui vorrei chiudere è, nel dibattito occorre anche fare molta attenzione, la necessità di innovazione, il sostegno alle start-up non può diventare un attacco ai diritti dei lavoratori. Cioè dobbiamo essere molto chiari che ci deve essere una base non negoziabile di qualità del lavoro che diventa poi, perché altrimenti se non abbiamo quello il rischio poi è di entrare in una spirale competitiva negativa, per cui alla fine se l'argomento principale o se lo strumento per aumentare la nostra produttività è la riduzione della qualità del lavoro, garantisco a tutti che si troverà sempre un altro paese che può competere su quello, come già sta succedendo. E se posso permettermi in conclusione un'osservazione personale, personale, non è la posizione della commissione, che io sappia almeno, io credo che sia quello che è successo esattamente all'Italia negli ultimi vent'anni. Cioè una competizione sulla qualità del lavoro, sugli stipendi, ma poi gli stipendi sono solo parte del pacchetto di qualità del lavoro, per cui alla fine altri paesi, che non menzionerò paesi molto grandi che stanno ad est e di noi, ci hanno fatto concorrenza su quel punto e hanno vinto con gli effetti che possiamo vedere. Quindi io veramente, se posso da cittadino italiano anche ad uno dei miei rappresentanti al Parlamento europeo, ci terrei a sottolineare, non continuiamo con lo stesso errore, non continuiamo a farci del male. Anche perché altri paesi dell'Unione europea dimostrano, hanno dimostrato che è possibile fare innovazione mantenendo, sono scelte a volte difficili e dolorose, però è possibile fare innovazione mantenendo una protezione dei lavoratori, non solo accettabile, ma ben più che accettabile. Tutta la mia stima per Andrea Glorioso, sia per, come ci ha spiegato un po' il ruolo della Commissione, quello che sta facendo, ma anche per questa riflessione finale molto personale che ha tenuto a specificare essere tale. Però credo che se vogliamo avviare un gruppo di monitoraggio dobbiamo guardare in faccia quello che succede in Italia, altrimenti rischiamo di star a raccontare storie che poi non hanno una praticabilità, non hanno una fase di execution, di fattibilità vera e propria. Mi spiegava prima quando si parlava appunto di start-up, che ad esempio l'Estonia, e questo lo racconto semplicemente per far capire agli italiani che molto spesso stanno chiusi un po' nella loro bolla, che in realtà esistono paesi che noi pregiudizialmente consideriamo magari meno evoluti di noi, ma che in realtà mi spiegava Glorioso sul piano delle start-up hanno alleggerito e facilitato queste idee del fallimento, hanno cercato in qualche modo di ricostruire una cultura del lavoro completamente diversa. Ecco, credo che questo lavoro che stiamo avviando con FLP e con CSE possa avere della strada buona da fare se queste cose ce le diciamo chiaramente con i nomi che hanno. Quindi ringrazio Andrea Glorioso per essere stato qui con noi ad aprire questi lavori e so che deve partire un video che ci può aiutare un po' ad introdurre ancora meglio, a spiegare. Se posso volevo approfittare, siccome sappiamo che il dottor Glorioso poi ci deve abbandonare per sollevare un paio di domande, una io e poi anche la collega Danzi. Io sono perfettamente d'accordo e la ringrazio anche per la sincerità con cui ha voluto sviscerare un po' le specificità del contesto italiano, comparandolo un attimo con quella che è la media europea e sono d'accordo anche sul fatto che aver cercato di riguadagnare competitività soltanto appunto sul costo del lavoro. È una battaglia impari che non solo abbiamo già perso ma siamo destinati a perdere inevitabilmente sia dentro il mercato unico europeo sia ancora di più nei mercati globali tanto più che avevamo forse diciamo un po' improvvidamente troppo posato le nostre aspettative su una manifattura a basso contenuto tecnologico che poi è stata inevitabilmente travolta dalla globalizzazione dell'apertura dei mercati. Però c'è una domanda che volevo sollevare anche perché sono membro anche della Commissione Affari Economici e Monetari. È vero abbiamo tante microaziende a conduzione familiare possiamo chiamarle anche danaziende però è vero anche che i piccoli di oggi i micro di oggi potrebbero diventare con il giusto accompagnamento i medi e i grandi di domani. Il tema su cui noi ci giochiamo molto questa difficoltà è l'accesso al credito. Io seguo nella Commissione Affari Economici e Monetari la implementazione di Basilea ma se scriviamo regole così stringenti che alla fine puntano molto sul modello della grande banca con i suoi sistemi di gestione del rischio uniformi che non conosce il territorio non conosce le specificità non investe non diciamo non prende non ha alcun margine di visibilità per dare un minimo di fiducia al ragazzo il giovane anche il meno giovane che ha l'idea brillante giusta per far crescere la sua azienda. Noi in realtà stiamo chiedendo loro un qualcosa che anche volendo non possono fare perché se non hanno il capitale per potersi permettere uno scale up e trasformare da start up o da micro azienda a azienda media. Io ho conosciuto mi creda eh decine di imprenditori di grandissima qualità e di successo mi ricordo uno in particolare in provincia di Arezzo che ha un mobilificio abbastanza importante e mi ha detto dopo aver visitato questo impianto ha detto io nei prossimi quattro anni ho una scelta o riesco a fare uno scale up e diventare un attore in grado di competere con i grandi gruppi tedeschi e svedesie oppure io vendo perché non avrò la forza di mantenere l'assetto attuale non voglio licenziare dei dipendenti che hanno fatto la storia di questa azienda a livello manifatturiero e quindi cercherei in questo caso vendendo di tutelare questo know how e la loro presenza ma al tempo stesso faccio fatica a trovare un accesso al credito adeguato che mi consenta di affrontare questa sfida quindi se posso la mia domanda è come riusciamo a convincere anche questo ogni singolo commissario tutta la commissione essere coerente perché se nella dg emple sottolineiamo il problema nel modo corretto e diciamo che bisogna trovare le condizioni di ma poi dalla parte insomma dg economiche ci ritroviamo con un approccio molto rigorista è come se da un lato dicessimo ci diamo un obiettivo e dall'altro ci sottraiamo gli strumenti per realizzarlo questa era la mia domanda e lascerei voi la parola maria angela per un'altra ragionamento di massimo no io in questi giorni sto affrontando il problema dei miei cosiddetti medici a gettone che stanno snaturando diciamo la prestazione di qualità del della sanità cioè dei primari di rianimazione che dove il lavoro di squadra di coordinamento è importante che dicono io se mi arriva il prestatore d'opera di una cooperativa che non conosco che magari ha già prestato lavoro notturno in un'altra struttura rischio io rischio il paziente e mi dimetto quindi una fuga dal lavoro pubblico perché abbiamo introdotto questo modello della prestazione di servizio ovvero di prestazione di lavoro autonomo io so che in Europa non esiste una qualificazione so che nei paesi di comune si si va a definire di volta in volta e ci sono dei criteri della corte di giustizia ma perché è avvenuto sto fenomeno e ricollegandomi al discorso che faceva Fabio perché le regole del patto di stabilità probabilmente la prima versione delle regole distinguevano fra la retribuzione dell'appalto di servizio che veniva esclusa dalle regole del patto di stabilità dalla prestazione di lavoro dipendente l'effetto è che noi stiamo mascherando in Italia rapporti di lavoro dipendente pacifici e che come tale dovrebbero rimanere sia rispetto alla qualità della prestazione ma anche della tutela del lavoratore e stiamo parlando di lavoratore con altra prestazione intellettuale solo per sfuggire a delle regole di patto stabilità i costi di queste prestazioni sono moltiplicati quindi il professionista viene pagato meno e ci sono dei costi di intermediazione la legislazione europea non presta appunto a questi aspetti perché in materia come sapete che viene regolata solo in parte e io che volevo porre il problema mi ero posta il problema almeno rispetto alla tutela dell'orario massimo di lavoro questa è la prima domanda è io apprezzo molto il lavoro dell'europa sono convinta che senza europa scelte fondamentali non possono essere possano essere fatte alcune materie dovrebbero rientrare a far parte a tutti gli effetti del trattato però noto che la commissione la mano destra a volte non guarda quello che fa la mano sinistra e quindi ne approfitto per dirle che su questi temi siccome io sono in commissione sanità mi piacerebbe chiedere appunto un'interpretazione perché ci servirebbe anche per alleggerire insomma la pressione che c'è sul nostro sistema sanitario questa era una domanda l'altra questione che mi pongo che ho posto a presidente conte e pongo ai colleghi e lei su quello mi ha sollecitata il problema del salario noi abbiamo salari bassi bene ma abbiamo dismesso istituti di benessere organizzativo che sono essenziali per la qualità la quantità di prestazione che possiamo dare ai nostri lavoratori ma soprattutto abbiamo smesso di fare politiche per l'alloggio dei nostri dipendenti la il successo della della nostra industria agli inizi del novecento delle nostre aziende pubbliche passava attraverso meccanismi che garantivano al lavoratore un accesso a un alloggio dignitoso a prezzi accessibili o in affitto con patti di futura vendita come possiamo intervenire anche su quello perché oggi se io in italia intervenissi come giusto che sia sto intervenendo sul salario minimo ma il salario minimo mi riesce a fare pagare in una città come milano come torino ma anche i salari che fornisce la pubblica amministrazione roma di mille tre mille seicento euro un alloggio e come possiamo integrando anche le politiche del new green deal che prevedono investimenti sugli alloggi e sostenendo le imprese a fare questi sforzi pubblici e privati pensando appunto che che il lavoro può essere retribuito oltre che con il denaro ed ecco l'errore delle aziende da questo punto di vista a volte dismettono anche grazie perdonatemi anche grazie allo smart working si stanno dismettendo complessi immobiliari importanti queste imprese li potrebbero mettere a disposizione anche sostenuti da questo punto di vista per frenare la la spirale inflazionistica per rendere più appetibili i rapporti di lavoro dipendente dove come sappiamo mentre una start up o un'impresa può detrarre quel costo dove magari dorme nello stessa sede dell'azienda l'operatore lavoratore dipendente non lo può fare e quindi rischiamo io penso che questo tema se riusciamo a metterlo a centro quello del fabbisogno abitativo che non riguarda solo l'Italia oggi mentre prima in Belgio Massimo tutti trovavano accessibile alla casa anche oggi in Belgio sta diventando un problema scusate se sono un po' però eh troppo importante ne voleva approfittare lo diciamo da convinti europeisti sono un federalista europeo da diversi anni quindi voglio proprio sgombrare il campo però ovviamente il dibattito è più Europa ma quale Europa anche quale modello implementare per evitare queste incoerenze queste contraddizioni di fondo Andrea Gloroso deve restare ancora un po' con noi a rispondere a queste domande che sono state veramente incalzanti grazie a Maria Angela Danzini prima di tutto rimango con grande piacere eh secondariamente giusto per rispondere a questo ultimo punto eh per essere chiare io credo che si debba essere europeisti ponendo questo genere di domande eh non 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 mi pone assolutamente nessun problema anzi credo che siano tutte domande estremamente estremamente ficcanti e importanti eh detto quello devo devo ammettere che su credo quasi tutti gli argomenti che sono stati sollevati ho il mio interesse personale però non me ne occupo professionalmente quindi non vi posso dare una posizione ufficiale della Commissione europea sapete bene che avete come giusto che sia gli strumenti per chiedere ufficialmente le posizioni sulla materia detto questo se posso posso offrire qualche riflessione più informale anzi molto informale su eh su questi temi parto dall'ultimo la questione delle delle politiche abitative è oggettivamente al centro del dibattito anche per il mio DG perché è ampiamente riconosciuto che è assolutamente voglio dire inutile però non non ha molto senso discutere di eh salari di stipendi di qualità del lavoro se poi la gente non sa dove vivere ok questo ma questo questo è è è chiaro riconosciuto accettato dove credo ci sia ampio spazio di dibattito anche su altri punti ma su questo in particolare è di chi è la responsabilità di creare le politiche abitative perché dobbiamo anche essere molto chiari e non lo dico per fare il burocrate che vuole spingere la patata bollente a qualcun altro ma abbiamo dei limiti anche all'interno dei trattati su quello che può fare l'unione rispetto a quello che può e forse devono fare gli stati membri o anche in alcuni stati membri quello che devono fare le autorità regionali le autorità comunali eh io credo che ehm da quello che so io quando abbiamo messo in campo il il fondo next generation EU recovery plan for Europe come come a volte è stato chiamato quei fondi possono essere utilizzati degli stati membri anche per questo tipo di politiche detto questo e adesso non voglio parlare dell'Italia rispetto alla Francia o la Germania perché non non è il mio ruolo qui ma è una decisione degli stati membri in che direzione vogliono andare se c'è uno stato membro che decide di investire in eh rinnovare il parco eh il parco immobiliare con politiche forse non del tutto sostenibili dal punto dal punto di vista finanziario invece che creare una politica eh degli immobili volta a supportare le fasce più povere della popolazione quella è una scelta all'interno di certi parametri che ci siamo dati collettivamente quella è una scelta dello stato membro e io credo che sia una scelta da dibattere all'interno del Parlamento dello stato membro all'interno delle discussioni politiche che avvengono negli stati membri e per essere un po' meno formale io non credo sinceramente ma può darsi che mi sbaglio come ho detto non che mi sbagli come ho detto non sono l'esperto della Commissione Europea su questi temi io non credo che a livello di Unione Europea ci siano in questo momento dei regolamenti o delle politiche che impediscano all'interno degli stati membri di porre in atto queste politiche a sostegno dell'abitazione là dove invece credo che sia opportuna una riflessione che comunque è già avviata e oggettivamente in che maniera tutte le regole di coordinamento macroeconomico che ci siamo dati di nuovo permettetemi di ricordare ce le siamo dati collettivamente non è che l'Italia non fosse presente in queste discussioni ma vabbè sono state scelte che sono state fatte in un particolare momento all'epoca credo che sia sempre in questo come in altri casi sia sempre molto utile ricordarsi che come si dice dalle mie parti in Italia ma credo anche altrove del senno di poi sono piene le fosse certe decisioni che sono state prese in un determinato momento storico all'interno di pressioni finanziarie di un certo tipo di una crisi economica forse avevano senso in quel momento non ce l'hanno più di tanto a me pare credo che sia lecito dire che persino paesi che fino all'altro ieri erano estremamente resti stati membri dell'Unione Europea che erano estremamente resti a discutere i parametri di base del patto di economica dello stabilità in growth party il patto di stabilità e crescita e il coordinamento macroeconomico in questo momento invece sono disponibili a questa discussione vuoi dire diamo qualche nome non molto tempo fa c'è stata una posizione congiunta di Spagna e Olanda sulla riforma delle due paesi che fino all'altro ieri erano agli estremi opposti e noi come commissione spesso e volentieri dobbiamo semplicemente tenere conto di queste posizioni differenti non possiamo imporre le nostre scelte agli stati membri io credo che sia importante sollevare ma qui entriamo veramente nell'ambito delle mie opinioni personali io credo che sarebbe molto utile sollevare un punto che a volte quando quando sediamo nel berlamo o negli altri edifici della commissione non è sempre così facile capire quali possono essere gli effetti di secondo o terzo ordine delle scelte che immediatamente sono logiche devono essere prese però non è sempre così banale capire quali sono gli effetti sul territorio e io qui faccio un invito è una grande frustrazione però devo confessare di tutti i funzionari della commissione europea che ci è difficile capire cosa succede sul territorio perché alla fine siamo noi che scriviamo la bozza di queste regole e non le scriviamo perché vogliamo far soffrire i cittadini europei le scriviamo perché speriamo che possano servire a tutti se però ci rendiamo conto oggettivamente questo punto che l'ha sollevato onorevole sulle regole di basilea e sull'impatto che possono avere sull'accesso al credito è un vabbè io non mi sono mai occupato di quelle cose per essere di quegli argomenti per essere chiari però può darsi che sia un punto che all'epoca quando quelle regole sono state scritte non era così chiaro quindi se mi posso permettere non lo dico da cittadino italiano non da funzionare della commissione perché da funzionare non è il mio ruolo dirle cosa fare o non fare onorevoli però da cittadino invece vi invito per piacere sollevate questo punto in tutte le serie opportune perché e qui chiudo questo punto se sono stato molto personale mi dicono sempre tutti che come funzionare della commissione europea dovrebbe essere più burocratico e distante no ma guardi se io credo vorrei chiudere su questo punto noi italiani l'italia ha dei problemi e oggettivo e ha fatto sono state fatte delle scelte errate in passato come anche in altri paesi però l'italia è un paese delle potenzialità enormi con una storia credo quasi irripetibile se guardiamo al resto con tutto il rispetto per gli altri stati membri dell'Unione Europea e quello che a volte ci manca è di sollevare i punti nella maniera corretta nelle sedi opportune e in maniera ripetuta soprattutto di tenere il timone molto dritto però qui ho detto anche troppo perché in quanto funzionare della commissione non è non è il mio ruolo quello di difendere gli interessi dell'italia all'interno della commissione ci sono altre entità preposte per questo e mi fermerei qui perché se davanti temo che dirò qualcosa che mi potrebbe pregiudicare la promozione per quest'anno quindi magari mi fermo qui ringraziamo davvero di cuore per la franchezza e poi ecco io voglio dire che sono a minima chiosa sul discorso di Basile in realtà la regola quello è un accordo internazionale però dipende molto da come si decide poi di implementarlo e faccio un paragone negli Stati Uniti le stesse regole le state implementando dando il massimo della flessibilità consentita per favorire le proprie imprese nella competizione globale a me sembra che noi ogni tanto scadiamo nell'errore di essere più realisti del re e di essere diciamo coloro che si vanno poi in un certo senso ad autocastrare pur di dimostrare che abbiamo l'applicazione più ferrea quando gli altri invece cercano il più possibile di avvantaggiare il proprio sistema potrei fare altri esempi l'ira per esempio americano in confronto al fatto che noi ancora stiamo discutendo sul fondo sulla sovranità è chiaro che quello falserà la competizione ma se noi non corriamo ai ripari parallelamente giochiamo rischiamo di mettere le nostre imprese il nostro sistema produttivo intorno a un tavolo in qualcuno qualcuno al mazzo truccato e noi invece giochiamo rispettando le regole col mazzo veramente totalmente pulito trasparente ma eh e chiediamo quindi ai nostri un doppio triplo e quadro blocporso era un pochino ecco questo quello che è il mio piccolo sentito da dopo nove anni insomma di esperienze in questo Parlamento ma mi fermo qui per non non posso commentare ma ultimamente grazie ad Andrea glorioso e grazie anche alla dottoressa che ci ha permesso anche un po' di di entrare con più cura anche con più coraggio dentro questi dentro questi temi perché ce n'è sicuramente bisogno procediamo appunto con la visione di questo video e poi torniamo a dibattere un po' su questi temi un paese migliore senza burocrazia una pubblica amministrazione più semplice rinnovata amica dei cittadini al servizio esclusivo della nazione una spinta forte nell'aiutare le pubbliche amministrazioni a evolvere i diritti costituzionali al lavoro alla salute alla giustizia alla cultura all'istruzione di ogni cittadino pienamente attuati il rispetto dei diritti dei lavoratori delle persone dei cittadini a garanzia del benessere collettivo nessun legame con chi difende solo interessi corporativi lavorare per un invitiamo i prossimi relatori a raggiungerci qui sul tavolo per proseguire il dibattito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti riprendiamo questa seconda parte della tavola rotonda dopo un'introduzione che ci ha sicuramente fatto mettere già a terra parecchi temi che tornerò con piacere poi a sviscerare di nuovo e riparto allora da Roberto Reale che è stato presentato economista dell'innovazione ma anche curato il libro che oggi ci accompagna in questo approfondimento e mi piacerebbe visto che già siamo entrati un po' nell'importanza del linguaggio che si utilizza nell'importanza delle parole che spesso scegliamo per per raccontare il mondo del lavoro i suoi meccanismi in diversi momenti abbiamo già usato la parola innovazione digitale e tecnologia Roberto Reale facciamo un po' chiarezza anche sull'utilizzo di queste parole applicandolo anche al nostro paese Italia Sì grazie Stefania grazie a tutti abbiamo in realtà stamattina già toccato in modo anche abbastanza profondo se vogliamo i temi legati da un lato all'innovazione perché nell'area semantica dell'innovazione si è parlato di competitività e dall'altro lato invece abbiamo il tema della digitalizzazione della transizione digitale i francesi parlano di transizione numerica in Italia appunto parliamo di digitalizzazione o di transizione o di trasformazione digitale in modo come dire abbastanza forse un po' superficiale nel senso che li trattiamo come se fossero sinonimi in realtà non sono del tutto sinonimi nel senso che la digitalizzazione allude sostanzialmente all'utilizzo di tecnologie digitali all'interno di processi già consolidati la trasformazione digitale come invece dice il nome di fatto comporta una ricreazione di processi che ovviamente si basano in una nuova forma appunto sull'utilizzo di tecnologie digitali ma l'innovazione è qualcosa di completamente diverso, di molto più vasto se vogliamo l'innovazione ha a che fare con le idee anzitutto e poi ha a che fare con il mercato e con la politica perché già dalla definizione quella classica che ne dava Schumpeter quando parlava di creazione e distruzione nello stesso tempo contenuti appunto nel processo innovativo per avere innovazione devo avere da un lato l'idea ma devo avere poi la capacità che questa idea generi valore una volta inserita nel mercato quindi l'innovazione non è semplicemente tecnologia è l'unione appunto di tecnologia, di idee ma anche appunto di valore e qui io vorrei fare una piccola riflessione anche ricollegandomi a quello che appunto anche Dolo Devole Castaldo ha detto di fatto occorre avere una visione sistemica nel momento in cui vogliamo generare innovazione si è parlato di start up sicuramente le start up sono uno strumento, sono un luogo in cui si può fare innovazione però da sole naturalmente soprattutto in un contesto che è diverso da quello classico della Silicon Valley eccetera non possiamo lasciarle, non possiamo abbandonarle è necessario quindi che si crei un ecosistema, che si crei un humus efficace humus che in Italia in qualche modo non è ideale e questo per tanti motivi anzitutto per il motivo se vogliamo legato alla struttura del credito la struttura dell'accesso al credito che è purtroppo limitato, si è parlato di banche stamattina ma non è, se guardiamo altri esempi nel mondo il canale bancario non è sicuramente l'unico anzi forse è un canale ormai residuale in Italia invece resta il canale prioritario per l'accesso al credito è un canale che però chiaramente è legato a una regolamentazione molto molto stringente e che probabilmente può mal sposarsi con invece diciamo le esigenze delle start up è necessario in qualche modo che il capitale privato e quindi l'investimento anche da parte del cittadino, da parte del privato entri e dia l'infa, dia forza all'ecosistema innovativo però questo che in Italia si può fare perché come sappiamo l'Italia ha una ricchezza privata notevolissima però la cultura del risparmio in Italia è ancora legata a strumenti finanziari novecenteschi se vogliamo, quindi titoli pubblici, immobiliare anche ma poco propensa invece al rischio connesso all'innovazione, connesso alle start up invece dobbiamo io credo creare cultura finanziaria in Italia e incentivare l'investimento privato, quindi l'ingresso del capitale privato anche su larga scala appunto a favore dell'ecosistema innovativo poi naturalmente non è l'unico fattore necessario sicuramente i meccanismi di trasferimento tecnologico quindi il nastro trasportatore tra l'università e le imprese devono essere sicuramente potenziate se guardiamo l'esempio tedesco del forofer quindi un istituto, un istituzione che raccoglie centinaia di centri di ricerca e li mette in contatto con le imprese ma anche l'esempio francese che è un esempio ormai di successo ecco, questo secondo fattore appunto il collegamento ricerca-imprese in particolare ricerca-start up naturalmente è un fattore che va sicuramente potenziato e infine io vedo un terzo fattore nella possibilità di introdurre deroghe permettetemi questa osservazione deroghe nella regolamentazione in settori specifici, in settori strategici come quello dell'intelligenza artificiale tanto ne parlo perché se ne è parlato prima e come sappiamo da pochissimi giorni il Parlamento ha votato l'AI Act la versione, il draft dell'AI Act prima dei triloghi ma io credo sia fondamentale introdurre dei meccanismi peraltro già previsti in questo testo di cosiddetti sandbox cioè appunto di deroghe in condizioni controllate per soggetti innovativi appunto per start up per PMI che possano favorire comunque possono favorire l'innovazione altrimenti in un contesto in cui le regole sono stringenti e uguali per tutti sono solo le grandi realtà che ne hanno un beneficio perché naturalmente il costo della compliance su larga scala è più basso che per i piccoli io credo che anche il GDPR citato appunto da Dovevole Castaldo come un esempio virtuoso come esempio da seguire sia d'altra parte un testo che contiene comunque implicitamente l'idea della modulazione diciamo della stringenza della regolamentazione rispetto alla dimensione ad esempio ad esempio come sappiamo insomma non voglio scendere le tarite tecniche ma i titolari del trattamento in tema di appunto data protection devono mettere in lato misure adeguate adeguate naturalmente a una valutazione del rischio che sarà diversa rispetto diciamo tra una appunto una start up un certo principio di proporzionalità assolutamente assolutamente quindi questo terzo ecco questo terzo elemento mantenere appunto la possibilità di ambienti di ambienti appunto in cui la forza della regolamentazione viene rilassata naturalmente appunto in condizioni controllate per venire incontro appunto a soggetti di piccole dimensioni che però sono quelli che poi in Italia soprattutto ma anche in altri stati membri insomma sono quelli che poi possono in qualche modo generare innovazione noterete come continua a pesare la fisionomia e anche la fisiologia del nostro peso all'interno di queste riflessioni che stiamo facendo io chiedo a Fabio Massimo Castallo di seguirmi nell'essere un po' la mia cerniera tra tutti questi interventi perché mi viene in mente questo pensiero noi usciamo da tre anni molto difficili molto complicati che già avevano una eredità non semplice nelle crisi precedenti che sappiamo saranno sempre più frequenti anche a livello economico e sociale allora mi chiedo questo quale possa essere oggi una idea di lavoro che l'Unione Europea si fa quando parla di questi temi dovendo in qualche modo uniformare non omologare ma uniformare o provare a cercare un filo conduttore tra paesi così diversi e questo è proprio se mi posso dire il cuore e il sale del metodo di lavoro nell'istituzione europea che differisce significativamente rispetto al dibattito politico nostrano nazionale ne parlavamo anche l'altra sera ieri sera in un appuntamento più condiviale bisogna immaginare che il cuore della mediazione a livello europeo si fa non solamente tra famiglie politiche ma possiamo immaginare una sorta di sistema in cui sulle ascisse abbiamo le famiglie politiche ma sono ordinate abbiamo stati le culture nazionali quindi è un incrocio tra questi due aspetti e il punto di caduta deve cercare in qualche modo di rappresentare le sensibilità di entrambi le rotaie di questo binario e non è un punto di vista semplice da trovare lo ricordavo prima nel dibattito definitorio noi affrontammo il tema appunto della taglia delle imprese e di qual è la concezione l'idea insomma che stati ne hanno ad esempio già nel piano Juncker 2014 eravamo appena entrati in questo Parlamento e subito lì si pose il problema ma noi come dobbiamo modulare qual è la proporzionalità necessaria per evitare che la competizione per l'accesso a questi fondi sia falsata dal fatto che sullo stesso naso di partenza metto delle entità che sono per dimensioni per taglia per capitalizzazione per modelli gestionali per contesto in cui operano totalmente diverse ecco anche per quanto riguarda i modelli di lavoro è in dubbio che si ponga la stessa sfida basta pensare anche alla radice stessa di concezione di Europa che hanno i vari stati oggi noi abbiamo una cosiddetta vecchia Europa che a Occidente comunque persegue faticosamente con le sue lentezze con le sue dipensamenti un progetto di integrazione politica a tutto campo quindi che tocca squisitamente ed evidentemente anche il campo del lavoro delle politiche sociali che quindi chiede un innalzamento dei standard verso l'alto in modo energico ma abbiamo un'Europa nuova dell'est del grande allargamento del 2004 e successivo che invece in altanti casi concepisce l'Europa più come un grande mercato o tutt'al più come uno strumento per favorire la coesione territoriale attraverso i fondi strutturali attraverso quindi gli interventi di riequilibrio ma che non vuole invece una sorta di costituzionalismo multivivello con una costante lenta ma inesorabile integrazione in tutti i campi incluso quello delle politiche del lavoro del sociale ce lo ricordava prima il dottor Glorioso in modo molto plastico ma l'ha detto abbiamo accettato la sfida ai paesi dell'est Europa sul costo del lavoro sulle condizioni io mi dico se avessimo avuto un innalzamento verso l'alto degli standard la sfida non si sarebbe svolta in questo modo perché evidentemente avremmo attratto anche mano a mano loro sì sicuramente economie molto dinamiche molto giovani sicuramente con degli antitassi di crescita intrinseca derivanti dal fatto che comunque stanno facendo una lunga transizione rispetto alla vecchia economia di stampo diciamo di socialista reale di regista del patto di Versavia ma comunque le avremmo in qualche modo questa condizione imbrigliata in un lavoro in cui si sarebbe trasformata l'Europa non soltanto in un grande spazio di diritti di prima generazione ma anche di diritti di seconda generazione economica e sociale questo quindi concetto di coesione non solo territoriale ma anche sociale che fanno fatica a molti governi ad accettare penso all'Ungheria penso alla Polonia in particolare che si distinguono molto come capofila di questo fronte io credo che in questo senso bisogna cercare per mettere pressione su questi governi più recalcitranti nella definizione appunto di standard effettivamente sempre costantemente alla ricerca di un miglioramento di un rafforzamento verso l'alto bisogna coinvolgere le loro società civili bisogna far comprendere proprio ai lavoratori di quei paesi che tutto sommato ciò non attenta al loro lavoro al contrario consentirà loro di avere sempre di più protezioni e tutela io ricordo molto bene plasticamente la discussione che ci fu all'inizio all'inizio di questo sul pacchetto dei trasporti ad esempio e lì abbiamo avuto un emiciclo che non si è spaccato secondo l'asse delle famiglie politiche ma si è spaccato ovest verso est socialisti che votavano contro il pacchetto perché erano sotto una pressione enorme lobbistica delle grandi aziende del proprio paese e magari i popolari scandinavi o di qualche altro stato che dicevano no tutto sommato il pacchetto è buono è importante stiamo affrontando un tema in uno dei comparti più martoriati da questo problema di dumping sociale e salariale e queste condizioni così poco regolamentate comportano rischi anche per la circolazione stradale perché pochissime ore di riposo tornazione non sufficiente assicurazioni non sufficienti avevano comportato incidenti anche nei nostri paesi perché se il contesto è integrato il mercato è unico è evidente che mancando una tutela uniforme si crea ovviamente un oiato si crea un'incoerenza io sono convinto che questa battaglia possa essere vinta ma deve essere una battaglia in cui noi siamo in grado di uscire da questa dicotomia uscire da questa logica contrapositiva per far comprendere che invece l'Europa poi deve essere modello a 360 gradi anche appunto in questo ambito però ripeto convincendo lavorando insieme ai sindacati alle associazioni datoriali alle piccole imprese anche di questi paesi cercando una logica ovviamente diciamo di cooperativa se vogliamo non tanto vincere nel senso di cercare di imporre politicamente ma convincere e convincere però presuppone uno sforzo di dialogo uno sforzo interpretativo uno sforzo anche di in alcuni casi di rinuncia su alcuni singoli punti in funzione di quelle priorità che andremo a identificare quello che mi ha insegnato il lavoro qui al Parlamento Europeo è proprio questo in una negoziazione identificare le priorità irrinunciabili e scegliere gli obiettivi secondari che si possono anche sacrificare nell'ottica di un compromesso più ampio pur di mantenere l'impianto originale e qui appunto vado a chiudere ricordando sempre che il tempo è un fattore essenziale noi possiamo anche illuderci di poter ignorare procrastinare rinviare ma questo non farà altro che cagionare un solo fatto che saranno sarà la realtà decidere per noi i fenomeni si governano oppure si subiscono se li vogliamo governare l'unica strada è appunto allargare il più possibile il fronte ricordandoci anche che grazie a Dio grazie anche all'ultima revisione quella di 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 Lisbona la maggior parte delle materie oggi sono in codecisione quindi non siamo più eventualmente ostaggio del singolo paese e non più in tutte le materie dobbiamo fare sempre il compromesso a ribasso più minimo ma in molte casi si può anche di fronte all'ostruzionismo ingiustificato ingiustificabile dire bene andiamo votiamo 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 a maggioranza qualificata 55% degli stati 65% delle popolazioni tutto sommato il fronte se riusciamo appunto a evitare che si coalizzi e si spacchi proprio lungo la linea ovestesse ma riusciamo a trarre verso di noi altri governi altri paesi un po' più coraggiosi lungimiranti proprio lavorando sulla pressione della società civile le loro organizzazioni anche degregazione potrebbe essere una battaglia appunto non impossibile dipende appunto anche dalla nostra capacità e anche da mostrare un'Italia propositiva non la classica Italia che come tante volte è venuto si lamenta sull'ex post a cose fatte ma che governa procedimenti vegetativi europeo anche dalla fase ascendente anche dai suoi sordi anche confrontandosi subito con la commissione l'Italia non presenta abbastanza paper prima si parlava del paper spagnolo-olandese anche noi possiamo presentarli di più possiamo essere più incisivi possiamo essere attrattivi quando però non accettiamo di dire preferisco non giocare la battaglia per poi lamentarmi ex post che mi hanno escluso che non mi hanno coinvolto per tempo sono tutti cambi di paradigma che secondo me sono fondamentali proprio per rispondere alla domanda che mi hai fatto cioè come affrontare appunto il problema dobbiamo essere proattivi non lamentosi ma molto molto efficaci e dobbiamo essere in grado anche di mettere in mostra i nostri esempi virtuosi affinché non si non prevalga sempre la narrativa dell'Italia fanalino di coda che deve cercare il modo di erodere un po' di flessibilità no abbiamo anche tanto da poter condividere e da poter illustrare Marco ha fatto una carrellata bellissima prima mettiamo in evidenza gioielli di famiglia utilizziamola anche qui per essere polo di aggregazione e front runner e non sempre appunto reattivi ex post come tante volte è capitato nei processi di procedimento legislativo europeo non speravo di una risposta così esaustiva che in realtà continuo a mettere a sistema altri spunti e altre riflessioni la domanda mi era venuta semplicemente perché prima lei faceva riferimento a questo forte potere regolatorio con cui l'Unione Europea si è affermata a livello internazionale con il GDPR che è diventato poi un modello comunque un punto di riferimento mi chiedevo se e mi ha risposto in maniera più che esaustiva se fosse possibile che l'Europa diventi anche sul piano internazionale un modello di lavoro nuovo rispetto a tutte queste trasformazioni che stiamo che stiamo vedendo e che sono davanti ai nostri occhi passo la parola a ci spostiamo da questo filone iniziato con glorioso con reale legato a innovazione tecnologia digitalizzazione e trasformazione digitale che abbiamo scoperto essere due cose molto diverse e che in particolare in Italia ci fa bene capire in tutte le sue sfumature e andrei ad Antonio Leonardo Fraioli che è professore di diritto del lavoro alla Università Torvergata di Roma perché mi piacerebbe con lui andare un po' invece a capire come vedi il lavoro una persona che lo ha sempre visto e studiato da un punto di vista giuridico cioè delle norme di chi ha regolato fino adesso un po' il sistema questo perché noi siamo sempre stati abituati un po' a considerare il lavoro come un contratto di lavoro come un rapporto di lavoro abbiamo assistito in questi ultimi decenni in realtà ad una parcellizzazione delle forme di lavoro ad un ricorso a forme di contratti che sono veramente infinite eterogene molto diverse tra loro questo crea anche molta difficoltà per chi entra nel mercato del lavoro soprattutto generazioni più giovani e allora mi chiedo appunto com'è il lavoro oggi nel 2023 per chi come lei lo vede lo studia sempre da un punto di vista giuridico e normativo allora ringrazio per la domanda ma soprattutto ringrazio per per questo incontro perché ringrazio perché mette insieme delle delle parti che difficilmente si incontrano l'università spesso è restia ma restia non perché siamo ma perché siamo un po' pigri probabilmente invece dobbiamo essere all'avanguardia cioè metterci in contatto con le parti con la politica con i tecnici con i professionisti con tutti perché questo qui accresce e la domanda che mi ha fatto cercherò di rispondere ma io rispondo diciamo all'inverso cioè noi siamo dei meri tecnici cioè facciamo poco a volte quando sono a lezione con i miei studenti inizio a parlargli e dico guardate che noi possiamo fare qualcosa ma chi chi può far tanto è l'economia le imprese politica possiamo assolutamente consigliarli e questo è è fondamentale io ricordo a me stesso che i tre punti poi su cui si scontra sempre un'impresa ma non perché l'impresa è l'attore fondamentale unico ma è quella che sostanzialmente dà lavoro assume viene a Eno a chiederci all'università quant'è che costa un rapporto di lavoro quanto tempo occorre per una praticamente autorizzazione da parte dell'amministrazione pubblica quant'è che dura un contenzioso purtroppo mi riferisco al nostro paese Italia io tento di non rispondere poi mi dicono professore mi deve rispondere cerco di rispondergli qualcuno non comprende ma insomma se rispondiamo correttamente a queste tre domande difficile rispondere perché costo del lavoro siamo a mille e quindici ccnl contratti collettivi non so se comprendete il significato cioè contratti che si applicano contratti fasulli genuini pirata ma sono oltre mille contratti collettivi se vai a raccontarglielo a un collega inglese è impossibile non riesci a dirgli perché noi abbiamo questi contratti collettivi ma questo guardate non è nemmeno il punto che mette più paura perché i dici che applichi quelli comparativamente più rappresentativi e quindi comprendono due quant'è che dura un contenzioso diciamo ma ci sono tutti i termini che sono all'interno dei vari codici e leggi basta che si applicano e li dicono vabbè ma insomma però la parte proprio fondamentale che non appartiene tanto al diritto dell'angolo ma è questo rapporto con l'amministrazione pubblica per le imprese cioè sanno quando fanno una domanda ma non sanno quando viene disposta abbiamo tentato silenzio assenso silenzio rigetto tutto quanto però questo è sostanzialmente una questione fondamentale che va oltre il diritto dell'angolo tento di entrare un po' più nel dettaglio abbiamo parlato dell'aumento esponenziale dell'intelligenza artificiale siamo nel punto esatto in cui ancora o meglio ancora non tutti sanno come praticamente approcciarsi quindi c'è questo gap tra una tecnologia che aumenta ma le persone non riescono a trovare occupazione perché non sanno utilizzarla anche io sono un pigro quando c'è un'applicazione che mi dicono professore si scarica applicazione dico mamma mia ora mi devo mettere lì e devo apprendere un'ulteriore funzionalità però è questo momento è questo qui quindi comprendiamo la difficoltà che abbiamo nell'aumentare l'occupazione questo va di pari passo assieme alla ad andare a dover formare formazione che attenzione costa e si vede però a 5 anni a 10 a 20 è come quando nelle lezioni politiche tutti offrono quello che si vede all'istante quello che poi è quello che serve meno probabilmente quello che si vede a 5 anni a 10 a 20 anni è quello che serve poi a cambiare tutto il sistema quindi formazione fondamentale io ho appuntato dei bullet point come delle cose fondamentali flessibilità nel rapporto beh c'è un libro qui che ne parla in un modo fondamentale non si torna più indietro dallo smart working ma non dobbiamo tornare indietro e non dobbiamo aver paura di affermare ma con lo smart working un lavoratore dipendente si accolla una obbligazione di risultato e qual è il male? tanto lavorerà sempre in determinati spazi di di tempo poi sì probabilmente aumenterà responsabilità però signori se non vogliamo responsabilità che devono essere retribuite questo correttissimo quindi c'è tutto un problema di quanto corrispondere per le responsabilità che una persona si assume però la responsabilità è il sale se non hai responsabilità non puoi fare nulla due formazione già ne abbiamo parlato ma in questo momento storico è fondamentale far apprendere impartire alle persone ma non è che devono essere i settantenni ma i quarantenni anche che non non sanno approcciarsi a determinate funzionalità per metterli all'interno del mercato poi c'è un c'è un problema che Marco Carlo Magno accennava noi ne parliamo spessissimo assieme io vado a chiamarlo con il nome di un mix tra welfare e corrispettivo perché abbiamo paura di mettere assieme la retribuzione con un sussidio o si paga o si assiste una persona che quindi è fuori dal mercato o quella persona deve essere all'interno possibile che non riusciamo a comprendere ormai l'occupazione diminuisce siamo in in quel limbo possibile che non possiamo offrire in parte in determinate fatti specie con un corrispettivo di lavorazioni socialmente collettive ed utili un un sussidio possibile ti ti dicono l'obiezione ma c'è tutto un problema sulla concorrenza ma non è vero se dai dei soldi a un settore ma se tu agganci questa corrisponzione di un sussidio a determinate attività ma perché no possibile che noi determinate lo ricordavate voi produttività sono andate tutte via all'estero perché non riuscivano a stare al passo con il contratto collettivo è un suicidio suicidio però questo fa paura se parli con l'economista io ci parlo nell'università mia e niente sono come dei talebani o stai nel mercato o stai fuori dal mercato o rispetti il contratto collettivo o sei fuori è possibile non possiamo unire si può fare attenzione è difficile ma lì serve la la tecnica la la tecnica e vabbè ma noi noi ma chi può essere si mette al servizio della politica e cercano di crearlo tre che poi è connesso incontro tra la domanda offerta anche qui vogliamo aspettare altri trent'anni per mettere a posto l'incontro tra la domanda e l'offerta lasciarle in mano al centro per l'impiego che con tutto rispetto non è colpevole ma non ha informazioni con la di forma fornero 2012 si è tentato di spostare un pezzettino all'Inps che è l'unico che conosce tutti noi perché diceva che contributi sa che cosa facciamo professionalità ma lì ci sta un problema che all'interno della nostra carta costituzionale non si sa perché l'incontro fra la domanda e offerta è di competenza regionale e quindi sta in mano alle province e cambiamoli si può fare cioè se siamo qui non parliamo di cose io ho sentito solo cose corrette ed intelligentissime cioè avete toccato tutti i punti il problema però poi è farle atterrare difficile ripeto ma tentiamolo ho puntato altri pochi punti uno riguarda però quello una 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 delle le parti fondamentali che sono qui qui al tavolo cioè il fatto di estendere l'efficacia erga omnes dei contratti collettivi significa cambiare un po' il mondo in Italia ripeto mille contratti collettivi nel nel commercio facciamo così centodue contratti collettivi tutti astrattamente applicabili e tutti che hanno attenzione un costo del lavoro differente e quindi sposta tutto possibile che non riusciamo ad attuare l'articolo 39 della nostra carta che va semplicemente a dire guardiamo quali sono quei contratti effettivamente applicabili effettivamente rappresentativi cioè contiamoli difficili no è stato fatto già nell'APA si si contano sappiamo quali sono quelli effettivamente applicabili e questo andrebbe a togliere anche tutto il problema dell'introduzione di un salario minimo che su cui io personalmente ho di riserve ma solo perché sarebbe un'entrata gamba tesa nelle competenze delle parti no però è chiaro che se non attuiamo l'erga omnes dei contratti collettivi l'altra via è quella e quindi o questo o quello è una soluzione di backup proprio quello lì però sarebbe una competenza delle parti che conoscono il settore conoscono che cosa fanno e su questi dico una battuta tanto è vero che i colleghi scandinavi ci hanno detto ma noi non lo vogliamo perché non ci serve abbiamo una contrattazione collettiva che funziona e quindi anche perché il rischio qual è che proprio nei settori più scoperti diventi il salario massimo la trappola però mi rendo anche conto che se non riorganizziamo la contrattazione collettiva in Italia automaticamente diventa l'unica risposta a un problema reale che c'è perché per me lavoro a 3 euro 4 euro l'ora non è lavoro è sfruttamento chiamiamolo col suo nome scusatemi anche qui no no è proprio questo qui ma per questo anche ci occorre essere all'interno di un consesso con altri stati perché ci danno il là ci vanno proprio a sollecitare nel fare delle forme che noi non abbiamo il coraggio di metterci a fare l'altro punto era pensare a una partecipazione del sindacato ai sensi dell'articolo 46 della nostra carta costituzionale al governo delle imprese noi abbiamo un articolo non lo conosce nessuno conosciamo solo l'articolo 41 cioè il sistema della contraddizione contrapposizione tra chi ha capitale e chi ha la forza lavoro che va benissimo in determinati contesti funziona ma siamo a un punto in cui sarebbe assolutamente auspicabile una commissione come avviene già in determinati paesi Germania insomma non è che deve essere una partecipazione assoluta ma comunque incominciare a mettere dei rappresentanti dei lavoratori nei board in cui si pensa a come governare da qui a 10 20 anni 30 anni in presa e attenzione sempre su quel tema a corresponsabilizzare il sindacato ultime due tre appunti che purtroppo uno è quello che no a lezione io ai miei studenti dico ma di che parliamo di diritto del lavoro ma perché professore è perché se all'interno dei tutti i paesi la tassazione è così differente vogliamo parlare dello smart working della dipendenza economica a che serve cioè un'impresa che può scegliere quindi non un'impresa che deve mettere un albergo in Puglia che dice la Puglia sta solo in Puglia Sardegna c'è solo in Sardegna ma chi può scegliere quindi industria servizi ma che lo viene a mettere nei paesi in cui c'è una tassazione altissima io comprendo l'impresa è un'impresa a lucro poi aspetta alla legislazione mettere dei contrapesi ma è possibile che non si riesce a perché è semplice dire sentivo il rappresentante interessantissimo della relazione della commissione che diceva possibile che in Italia si pagano così poco i lavoratori concordo in pieno che in parte è una responsabilità che l'impresa potrebbe benissimo aumentare dall'altra però l'impresa ha quell'alibi che dice ma se io il costo del lavoro mio è del 48% nell'Ocse la media è del 33% quando abbiamo picchi al 20% negli stessi paesi dell'Unione beh difficile parlare di diritto del lavoro perché insomma un'ultima cosa che è connessa poi ai centri per l'impiego anche qui perché non creare un sistema di connessione tra le scuole le scuole di professionalità l'università e questo accesso al mondo del lavoro non sono chiacchiere in tanti paesi c'è proprio un sistema all'interno degli uffici ad hoc che si occupa solo di porre un obbligo che c'è una connessione scindibile tra gli studi e l'ingresso nel mondo noi è possibile che l'abbiamo solo in determinate università in Italia private la pubblica si fa questi job center job orientation ma poi finiscono lì scusate se vado solo per per punti ma è l'ultima pensioni perché c'è Marco che ha toccato un punto fondamentale difficile cambiare difficile perché passati al sistema di partizione non torni più indietro cioè le pensioni dovrebbero corrispondersi tramite i contributi degli attivi il rapporto non so se uno a due cioè due passivi per uno attivo ditemi voi se può essere vero che le pensioni si paghino con i contributi in gran parte è fiscalizzato tutto già però perché non tentare di incentivare la evidenza complementare incentivarla significa un comma di un articolo non connetterla alla previdenza pubblica cioè non è possibile che io mi iscrivo a un fondo verso un fondo ma devo andare in pensione complementare con gli stessi requisiti della pensione pubblica e allora qui chi è che va a denunciare una parte della distribuzione mensile per versare un fondo che puoi andare a prendere solo a 68 anni e servì il certo per l'incerto quindi io mi mi vado a fermare qui riflettevo soltanto sul punto dell'intelligenza artificiale perché appunto con Viola anche ieri diceva chat a GTP ormai sì è vero è un mondo ma io riflettevo quando ero lì guardandoci dicevo chissà se ognuno di noi avesse mandato qui il suo robottino con un file perché già si fa questo chissà se avrebbe detto cose più interessanti e intelligenti di noi non penso questo sia perché quell'essere umano ha quel sentimento che il robot non ha sia perché mettere assieme non solo informazioni e dati ma riuscire poi a dargli una via è appunto difficilissimo quindi ringrazio mi fermo qui entro su quest'ultima provocazione dicendo semplicemente che se fossero venuti i nostri sostituti non avrebbero avuto queste domande perché non hanno i nostri problemi grazie intanto a Tantano Leonardo Fraioli e proseguo sul tavolo passo a Giancarlo Pitelli che è responsabile dell'organizzazione di FLP non so se avete notato anche voi una cosa che in realtà abbiamo parlato per quasi due ore ma la parola smart working è uscita fuori poche volte che secondo me è un atteggiamento molto strano di questo dibattito di questo gruppo di monitoraggio che testimonia come in realtà stiamo provando ad approfondire temi molto più profondi siamo andati molto al di là di quella che è la moda la tendenza a volte di seguire questi filoni ma senza l'interesse realistico e sincero di capire veramente dove stanno i problemi però Giacomo Pitelli entriamoci un po' in questo mondo dello smart working anche attraverso la lente di ingrandimento della pubblica amministrazione cerchiamo un po' di capire questo aspetto visto da quel buco della serratura sì intanto io ringrazio la dottoressa Zolotti e ringrazio anche per la partecipazione a questa discussione che è stata veramente una discussione e è veramente una discussione estremamente interessante con interventi di alta qualità di alto profilo io porterò un contributo diverso più modesto sicuramente e lo farò a partire dal mio osservatorio che è quello di un dirigente sindacale di FLP che lavora e opera all'interno del pubblico impiego che è comunque un pezzo di lavoro estremamente importante perché tocca oltre 3 milioni e 200 mila persone e lo farò appunto rispondendo all'esperienza di gestione appunto della pandemia sia nel momento in cui la pandemia si sviluppava nel nostro paese sia soprattutto nella fase successiva appunto al covid parto da un ricordo che non mi abbandona mai quando si parla di queste cose quella lunga fila di camion militari che come dire recavano al suo interno corpi di donne e di uomini che avevano perso la vita proprio per per la pandemia ed è un'immagine che si fa fatica lontana a come dire a dimenticare oggi quell'esperienza sicuramente superata dal punto di vista sanitario non totalmente superata ma diciamo corposamente superata ma ha lasciatoci veramente una traccia indelebile nel mondo del lavoro che è stato costretto a riorganizzarsi anche per resistere prima e per superare poi un'emergenza così drammatica e paradossalmente mi permetto di proporre questa riflessione noi quando parliamo di covid naturalmente parliamo di una esperienza drammatica negativa poi fortunatamente superata ma guardate che forse il covid ha lasciato anche un pezzo di eredità positiva perché voglio dire è la convenzione che in molti anni per quanto può servire anche la mia personale convenzione è che il covid abbia prodotto anche qualcosa di buono in una stagione che è comunque stata drammatica e mi riferisco appunto all'esperienza del lavoro agile dello smart guardate nel 2018 quindi in epoca ben antecedente al covid c'era stato un interessantissimo studio dell'osservatorio sullo smart working del Politecnico di Torino che aveva sin da allora in un qualche modo messo in rilievo come diciamo legati alla organizzazione del modello di lavoro agile ci fossero dei vantaggi dal punto di vista economico e sociale per esempio una maggiore produttività per esempio un ridotto tasso di assenteismo per esempio e soprattutto vorrei dire la possibilità di conciliare il lavoro con la vita privata ebbene nonostante quelle come dire quella situazione e quei dati positivi non è che l'esperienza del lavoro agile è stata come dire molto avanzata diciamo nel nostro nel nostro paese ieri sera Marco nell'incontro che abbiamo avuto col direttore generale faceva riferimento all'esperienza della Ducati che era una delle esperienze positive ma forse forse isolate per il resto fondamentalmente a parte appunto qualche esperienza illuminata il modello di lavoro agile nel nostro paese nel settore privato e ancora di più in quello pubblico non è andato avanti nel settore pubblico il modello di lavoro agile era praticamente uno sconosciuto ancorché ci fosse stato nel 2017 una legge dello Stato la legge 81 del 27 maggio del 2017 che aveva introdotto la possibilità appunto dell'accesso al lavoro agile e questo anche con delle finalizzazioni positive quella della modernizzazione dei processi lavorativi quella della digitalizzazione e così via e in un contesto forse vale la pena ricordare in cui diciamo tutti gli studi dimostravano come dal punto di vista della qua c'è un esperto della digitalizzazione dell'ammodernamento dei propri sistemi produttivi d'Italia non è che avesse posizioni diciamo di testa anzi era stabilmente ricordo il rapporto d'Esi era stabilmente collocata nelle posizioni inferiori di questa classifica ebbene io porto un'esperienza personale può essere interessante per come dire aprire una luce su un'esperienza effettiva di lavoro nel pubblico impiego io allora ero per la mia organizzazione sindacale per la FLMP il coordinatore generale nel ministero della difesa e come organizzazione sindacale noi allora fumo i promotori di iniziative anche con una certa costanza e incisività per fare in modo di far entrare all'interno della nostra amministrazione questo modello di lavoro agile dopo un anno e mezzo vi do un dato che già di per sé come dire fotografa la situazione l'amministrazione della difesa era a suo tempo un'amministrazione che aveva circa 200.000 dipendenti tra militari e civili ebbene la sperimentazione del lavoro agile che è stata alla fine varata ha coinvolto solo una cinquantina di dipendenti sottolineo 50 rispetto a 200.000 questo per dare il senso di qual era la sensibilità l'attenzione dell'amministrazione della difesa ma più in generale vorrei dire che questo era un fenomeno largamente diffuso poi è arrivato il covid e questo ha obbligato le amministrazioni pubbliche a muovere decisamente e velocemente verso il modello di lavoro agile perché quel modello è apparso sin da subito l'unico modello che consentiva poi tutto sommato di far fronte alla pandemia e fu così che il lavoro agile è stato introdotto all'interno delle pubbliche amministrazioni con apposito decreto diventando una modalità ordinaria di lavoro all'interno dell'amministrazione pubblica e questo pensate un po' durante la fase covid ha coinvolto questi sono gli dati che ho letto ha coinvolto quasi il 70% dei dipendenti pubblici nella fase più immediatamente acuta del covid e dipendenti che sono stati impegnati appunto nel lavoro da ramoto svolto questa è la particolarità in gran parte con dotazioni informatiche agli stessi dipendenti no e anche con modelli organizzativi che erano diversi da quello del lavoro agile perché per esempio venivano confermati vincoli di orario c'era pochissima per non dire quasi nulla autonomia organizzativa e così via però quella prova ha generato come dire rischi che svolto ovviamente in condizioni non certamente ottimali ha come dire poi ha ottenuto risultati largamente positivi ieri sera Marco nell'incontro che abbiamo avuto faceva riferimento alla straordinaria esperienza di alcune amministrazioni pubbliche l'agenzia dell'entrata l'Inps pensate l'Inps ha dovuto riconvertire e riorganizzare il proprio sistema e attraverso questa riorganizzazione è riuscita a garantire i trattamenti previdenziali e essenziali ma anche a par fronte a tutte le incombenze nuove vi ricordate diciamo che sono state inestate la cassa integrazione in deroga i ristori e così via e anche amministrazioni che come dire non hanno avuto risultati ottimali comunque hanno positivamente coinvolto nell'esperienza di lavoro agile la grande maggioranza del proprio personale per una situazione di necessità certo ma anche con dei risultati che poi erano quelli che quel famoso studio dell'osservatorio del Politecnico di Milano aveva già evidenziato a suo tempo e cioè una maggiore produttività una anche una riduzione di costi perché naturalmente è chiaro che il lavoro da remoto comporta anche voglio dire un risparmio di costi di diversa natura e anche soprattutto quel miglioramento dell'equilibrio tra vita privata e vita lavorativa questa avrebbe dovuto essere un'esperienza proprio il positivo che da questa emerenza cioè una pubblica amministrazione che riesce a organizzarsi a far fronte in situazioni drammatiche riorganizzando dalla mattina alla sera la propria macchina lui avrebbe dovuto fare tesoro di quell'esperienza ed avrebbe dovuto come dire abbracciare immediatamente un percorso che avrebbe portato poi successivamente alla stabilizzazione e all'implementazione del lavoro pubblico e invece nella pubblica amministrazione è successo esattamente l'opposto nel senso che ricordate il buon Brunetta che è stato ministro per la pubblica amministrazione a un certo punto ha fatto un decreto con la quale ha cancellato il modello di lavoro agile come modalità ordinaria del rapporto di lavoro e ha obbligato al rientro in presenza dei lavoratori pubblici mettendoci anche come dire una chicca ulteriore che è quella il massimo cioè la prevalenza della posizione dei lavorativi in presenza rispetto a quello della vorragge per cui oggi siamo dentro e mi accingo a concludere siamo dentro ad una fase nella quale quell'esperienza è stata in qualche modo dispersa ma io penso che ci dovrebbero essere come dire dovrebbero essere fatti tutti gli sforzi possibili e immaginabili per immaginare una diversa organizzazione questo si lega naturalmente con i temi della digitalizzazione della modernizzazione dell'apparato pubblico partendo da una come dire considerazione essenziale se l'amministrazione pubblica non funziona e non funziona con quella efficienza con quella dell'organizzazione necessaria né risente il sistema paese perché è chiaro che un sistema paese efficiente ha necessariamente bisogno di un'amministrazione pubblica che faccia adeguatamente il proprio lavoro mi fermo qui grazie a Giancarlo Pittelli andiamo verso l'ultimo intervento abbiamo toccato tutti questi aspetti e direi che a questo punto potremmo dare la parola a chi poi alla fine guarda in faccia questi lavoratori che in realtà poi va a selezionarli a capire un po' qual è il mercato del lavoro e quali sono appunto i momenti di contatto tra chi offre e chi cerca lavoro passo quindi la parola a Osvaldo Danzi che è il presidente di Fior di Risorse ma che da più di vent'anni di fatto fa il recruiter quindi fa questo di mestiere e mi piacerebbe chiedergli di fare una sorta di rilettura di collegamento e di unire un po' tutti questi puntini che abbiamo messo insieme questa mattina in queste due ore di dibattito per capire un po' se è possibile fare una prima sintesi di questo gruppo di monitoraggio e che cosa ci aspetta e soprattutto quali sono questi candidati e che cosa vedono dall'altra parte le persone che osservano il mondo del lavoro e cercano di entrarci dentro Sì sarò anche breve visto l'orario e visto che diciamo tutti gli aspetti ipertecnici li avete toccati voi anch'io non userò la parola smart working visto che in un nell'ambito di una buona cultura del lavoro ormai dovrebbe essere una parola strasdoganata di cui non ci dovrebbe essere bisogno di di sottolineare di sottolineare altro mentre ci tengo molto invece a fare una sottolineatura di quello che sta succedendo e di perché certe parole fanno fatica a passare il muro di una cultura del lavoro che ci permetterebbe di lavorare meglio come dice Stefania Zolotti guardo in faccia ai candidati tutti i giorni ma guardo anche in faccia alle aziende tutti i giorni e smart working è una di quelle parole e le parole nel lavoro nella cultura del lavoro sono quelle che in qualche maniera determinano l'informazione che poi genera i trend genera le opinioni genera anche i luoghi comuni negli ultimi due anni abbiamo incolpato i giovani di non essere di non sacrificarsi abbastanza come se il lavoro dovesse essere necessariamente un sacrificio abbiamo incolpato il reddito di cittadinanza come causa della decrescita delle aziende abbiamo spostato le responsabilità diciamo dalle imprese dal lavoro a una misura di sostegno che ha coinvolto poco meno di due milioni di persone fra l'altro una misura che in tutta Europa esiste anche se si chiama in altri modi e da altre modalità però abbiamo proprio spostato il senso della responsabilità di quello che stava succedendo come se poi gli unici candidati fossero i percettori di reddito di cittadinanza mentre nel frattempo assistevamo a proposte irricevibili e inadeguati al costo della vita di città che hanno drenato risorse umane da altri territori fra l'altro spesso svuotandoli e non permettendo a quei territori di crescere allo stesso livello persone studenti pendolari che oggi non hanno neanche la possibilità di permettersi le case in cui hanno deciso di vivere nelle città in cui hanno deciso di vivere stiamo disinformando l'opinione pubblica con i dati che provengono da società immobiliari e da pubbliche amministrazioni che hanno tutto l'interesse di nascondere quello che sta succedendo negli uffici e chiedo soltanto siccome siamo fuori fuori immagine se è possibile spostarsi in questa postazione così che chi ci segue possa seguire audio e video insieme scusate tecnicamente questo piccolo passaggio grazie grazie stiamo stiamo un po' spostando spostando le responsabilità da 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 chi effettivamente sta lavorando su questi temi e stiamo disinformando le persone stavo dicendo divulgando dei dati che provengono dalle agenzie immobiliari e dalla pubblica amministrazione che hanno tutto l'interesse di nascondere o non far sapere cosa sta succedendo realmente negli uffici uffici che si stanno svuotando mentre ne stiamo costruendo stiamo costruendo ancora altri palazzi ehm e stiamo nascondendo quello che è il fenomeno delle grandi dimissioni che in Italia solo in Italia ha coinvolto quasi 5 milioni di persone e non possiamo fare finta che questo non esista persone che hanno deciso di non accettare più né i ritmi né i tempi né le modalità eh che 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 a cui eravamo abituati fino a tre anni fa ma soprattutto hanno deciso di uscire l'ambiente in cui non gli viene permesso di vivere quell'equilibrio fra vita personale e professionale di cui parlavamo prima e di uscire da ambienti tossici cioè in questi giorni non so se avete se avete sentito la grande polemica che c'è intorno eh agli atti di sessismo che si che si sono svolti e perpetrati per anni nelle agenzie agenzie di comunicazioni milanesi che non credo che eh coinvolgano soltanto le agenzie di comunicazione e soltanto in una città ma penso che ci sia eh un un modello purtroppo che in alcune grossi grossissime aziende eh purtroppo viene perpetrato eh da anni stiamo rendendo il lavoro una commodity per poveri io non sto neanche a citare il fenomeno del food delivery che da anni eh in Italia eh ancora non riesce a essere regolamentato eh nonostante i tribunali abbiano decretato sentenze su sentenze riguardo a attività di caporalato all'utilizzo degli algoritmi eh e l'uso spropositato diciamo di risorse che non vengono minimamente neanche eh contrattualizzate e regole che qualsiasi imprenditore italiano invece è tenuto a seguire e queste società non si capisce come mai possono continuare a lavorare sempre eh nello stesso modo l'ultima trovata è ad opera della più importante associazione di categoria eh degli imprenditori eh è in Veneto di pochi giorni fa e riguarda il reclutamento di lavoratori dal Ghana eh per coprire il fabbisogno delle imprese del territorio tutto questo avviene dopo il click day di qualche mese fa dove abbiamo importato sessantottomila persone da quei territori che sono gli stessi da cui arrivano anche certe barche che affondano in mare di cui ci dimentichiamo dopo qualche settimana ma se sono lavoratori da utilizzare per i nostri campi per le fabbriche eh la cui unica condizione è quella di ritornarsene a casa appena il contratto è scaduto allora va bene anzi ne abbiamo presi sessantotto ne volevamo duecentomila eh tutto questo con il supporto delle agenzie per il lavoro che invece dovrebbero eh in qualche maniera garantire e guidare certi imprenditori a non concorrere alla precarietà eh di questi progetti non c'è nessuna politica eh di reclutamento strutturato non c'è il dialogo con le università soprattutto dal sud da cui proviene la stragrande maggioranza dei lavoratori e delle persone che eh oggi sono impiegate nelle grandi città eh e da cui ogni anno escono ingegneri economisti informatici ma anche umanisti perché oggi abbiamo parlato di intelligenza artificiale e continuiamo a eh eh allineare l'intelligenza artificiale con le materie STEM ma non ci dimentichiamo che l'intelligenza artificiale avrà bisogno soprattutto di umanisti e meno di tecnici e più di studiosi di neuroscienze per farla funzionare invece siamo diventati un paese che sui giornali lamenta la carenza di figure straspecializzate mentre sta dismettendo le sue imprese più importanti GKN Whirlpool Saga Coffee Speedline Fimer e di conseguenza perdiamo tutto il know-how che abbiamo che abbiamo avuto come paese che ci ha rappresentato eh a livello internazionale per cercare soltanto della bassa manavalanza industriale cameriere e autisti per quei settori come la logistica e il portuale che sono fra l'altro i settori in questo momento nell'occhio del ciclone di grandissime inchieste della magistratura per lo sfruttamento di mano d'opera Fincantieri una su queste Bartolini e compagnia Cantano il lavoro si è rotto io dico sempre c'è da chiedersi se qualcuno si è in grado di aggiustarla e come dice Cataldo questo purtroppo non è lavoro è solo sfruttamento quindi proviamo a guardarlo con Castaldo Castaldo scusate perché purtroppo mi succede spesso anche nei è come Marco Carlo Magno che è Carlo Carlo Magno e purtroppo i nostri nomi c'è da chiedersi se c'è qualcuno se ci sarà qualcuno in grado di aggiustarlo intanto con il nostro giornale con Senza Fitro con l'associazione che rappresento formata da più di 8000 manager abbiamo in qualche maniera sondato come le persone si sentono all'interno delle aziende e purtroppo tutto quello che sta succedendo nonostante i giornali lo stiano raccontando in un'altra maniera è esattamente quello che abbiamo analizzato anche noi le persone stanno stancando di non poter avere una vita dopo il lavoro e quindi è su questo che dobbiamo incominciare a ragionare seriamente grazie Osvaldo Danzi andiamo verso la chiusura mi prenderei questi ultimi 5 minuti per rifare un tavolo veloce di domande in cui vi chiedo tempi radiofonici per la risposta veramente rapidissimi però vorrei tenere il tema dei giovani come tradugnion di quest'ultima tornata è riparto da Roberto Reale e gli chiedo sì allora come poi esatto riparto da Roberto Reale tenendo a mente appunto il tema dei giovani mi chiedo se realmente questa generazione è capace di usare il digitale e l'innovazione ma secondo me sì senza alcun dubbio dobbiamo io penso che è anche compito nostro compito della politica compito delle istituzioni dare fiducia alle nuove generazioni dare fiducia ai giovani perché io credo che nonostante nonostante poi le campagne anche un po' no della della stampa che tendono io penso spesso a stare su posizioni eh reazionarie io io invece sono convinto del fatto che ci sia tantissima potenzialità nei i giovani peraltro in particolare i giovani italiani sono anche sono anche spesso dotati anche di un bagaglio culturale notevole devo dire ehm ho letto di recente un un libro di una parlamentare italiana Giulia Pastorella ehm il libro si chiama Exit Only dedicato appunto al fenomeno della fuga dei cervelli noi abbiamo stiamo perdendo il nostro il nostro capitale più prezioso non voglio fare bassa retorica ma eh è sul sui giovani è sulle competenze dei giovani che possiamo costruire un futuro grazie passo a passo a Antonio Leonardo Fraioli chiedo a lui come immagina un un giurista del lavoro tra dieci anni di che cosa deve occuparsi la fisionomia di questo giurista del lavoro tempi radiofonici ricordo un giurista del lavoro in tempi ai tempi radiofonici no 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 tentiamo di no è questo qui quello che penso è proprio una una persona che deve essere al passo con i tempi e deve essere comunque costretta a confrontarsi con tutte le parti degli attori quello che penso fondamentale che da ultimo si è perso un po' è l'importanza da attribuire alle organizzazioni sindacali soprattutto nell'impiego privato ma pubblico anche devono riprendere in mano con tutta la la forza che hanno la gestione dei rapporti di lavoro è fondamentale perché la legge ha solo lo strumento di articoli commi e norme che entrano a gamba tesa nel rapporto senza poter fare distinzioni tra settori commercio industria chimica quant'altro la contrattazione collettiva se si riesce ad estendere appunto quell'efficacia erga omnes è l'unica che può tentare di rimettere in ordine come diceva Osvaldo di aggiustare un qualcosa che si è pronto finisco e dobbiamo tentare di spingerci in che cosa in quello che poi ho tentato perché mettersi a scrivere un libro è difficile quel libro che parla della dipendenza estendere le tutele a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto se tu percepisci un reddito solo da un committente il tuo tempo è assorbito in modo tale che non riesci a stare sul mercato tu sei un dipendente che deve avere le tutele tipiche di un dipendente a prescindere dal nome subordinato dipendente continuativo co 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 questo è un punto importante so che a questi livelli ne stanno già parlando perché ho letto diverse questioni però non ci abbiamo ancora il cioè capisco che è difficile perché è un passo in però è il passo da fare è questa la cosa secondo me sia almeno insomma grazie certo sollecitazioni a me viene sempre a me dispiace sempre che le scelte dei modelli organizzativi cioè come un'azienda organizza se col lavoro dipendente lavoro autonomo prestazione di servizi alla sua attività soprattutto le aziende pubbliche devono discendere a scelte gestionali che non devono essere invece incrinate da altri modelli o legislativi o contrattuali io qui dico una cosa con la quale non mi sono confrontata mai col movimento in particolare per me una insegnante dell'asilo nido se è dipendente della cooperativa o è dipendente del comune o dell'associazione di madri dell'agenzia di amministrazione ok per me fa lo stesso lavoro quindi in termini di tutela ma io dirò di più che siccome dal livello di tutela ne dipende anche la qualità della prestazione esattamente e l'oggetto di quella prestazione è un bambino o un anziano so che ci sono sistemi di contrattazione che prescindono dalla natura del soggetto datore di lavoro lo vogliamo fare questo sforzo di dire appunto perché c'è un campo legislativo che non può scendere né in termini di qualità della prestazione né in termini di tutela a quei livelli di affermare invece un principio che quando l'oggetto è una prestazione quella prestazione a prescindere dalla natura del soggetto va regolata almeno nei suoi canoni fondamentali e in questo io ho trovato e lo dico dall'esperienza mia che a volte cercavo di spostare una frazione di un servizio era il comune di Genova cioè avevo dei dipendenti che facevano servizi cimiteriali che sono molto delicati e li dovevo spostare in un'altra società perché un segmento per una legge per la concorrenza non poteva essere messo insieme il trasporto funebre con la cura del bambino da prendere da prendere diciamo al gaslini perché hanno due funzioni diverse una commerciale e una no beh io ho trovato delle grosse resistenze perché lo stesso sindacato e quindi io mi diceva se me lo fai passare da quello passa sotto un'altra categoria e io questa cosa con rischio di dover licenziare quelle persone quindi il sindacato sarà mai in grado di affrontare questa spida che è quella che mette al centro la prestazione e il soggetto la persona che lavora ma la persona che riceve la prestazione è un servizio che riceve la prestazione perché se secondo me io lo dico perché ho fatto decine e decine di contratti decentrati grazie è un'ottima riflessione siccome Marco Carlo Magno sento che scalpita lui dice noi ci siamo allora noi ci siamo e sarò anche tempi brevi mi ricordano noi ci siamo sarò proprio telegrafico e noi ci siamo per cambiare e rilanciare questo paese voglio leggere il mondo è cambiato adesso abbiamo sentito tanti rivoluzionari qui addirittura il DG ieri dicendoci delle cose molto franche il rappresentante della commissione europea io vi leggo una frase che certamente voglio dire non sarà un rivoluzionario non potrebbe essere accusato di estremismo ha scritto e l'ho citato nel libro nessun rapporto ha subito più modifiche a causa della pandemia di quello tra datori di lavoro e dipendenti la normalità prevedeva che i dipendenti andassero in ufficio cinque giorni alla settimana raramente si parlava di salute mentale sul luogo di lavoro e i salari della mano d'opera basso e medio reddito crescevano a mala pena quel mondo non esiste più le società e le amministrazioni che non si adeguano a questa nuova realtà e non danno seguito alle stanze dei loro dipendenti lo fanno a loro rischio e pericolo beh queste parole le ha scritte in una lettera mandata a tutti gli azionisti consulenti ed altro il CEO di Black Rock il guru del capitalismo mondiale quindi non un pericoloso sovversivo non un pericoloso rivoluzionario ma di qualcuno che ha scritto che il capitalismo è la sua possibilità di mantenere di non rompere completamente il rapporto di lavoro e solo se si riforma in queste modalità ecco io il mondo è cambiato è bene che ce ne rendiamo conto noi siamo qui anche con questo gruppo e con questo osservatorio per fornire sollecitare e intervenire quindi quella sociologia interventista che con supporti giuridici socio-economici conti è in grado di cambiare perché la sostenibilità di questo mondo deriva da una capacità di adattarsi e di essere una volta tanto veramente noi persone intelligenti grazie di questa chiusura il tempo del nostro collegamento si è concluso spero di aver facilitato e dato la possibilità comunque di approfondire tutto quello che abbiamo messo qui qui sul tavolo il ringraziamento è d'obbligo per Fabio Massimo Castaldo che ci ha ospitati in questo contesto sperando che non sia soltanto l'unico appuntamento ma di poter tornare a toccare ancora di più in profondità tutti questi temi che toccano il mondo del lavoro io cercherò di accogliere l'invito dell'estrema sintesi perché siamo già quasi fuori tempo massimo per dire che come diceva una famosa trasmissione italiana noi non lasciamo ma raddoppiamo sempre in questo caso abbiamo capito anche dalla grandissima mole di riflessioni molto profonde argomentate oggettive che oggi abbiamo scambiato di fronte a noi abbiamo non la fine di un evento ma in realtà l'inizio di un percorso e l'inizio del percorso lo dovremo costruire insieme proprio dando vita al lavoro dell'osservatorio del monitoraggio dello studio che verrà fatto affacciandosi che non sia un ecosistema appunto relegato esclusivamente nel mondo accademico o soltanto nella rappresentanza sindacale o ancora solo nel contesto italiano ma che viva ed espiri si permei dello scambio proprio con la dimensione europea perché abbiamo ricordato tutti quanti un filo conduttore fondamentale ormai il mercato del lavoro sicuramente europeo probabilmente anche globale o lo diventerà sempre di più e quindi illudersi di essere un po' come le rane intorno allo stagno secondo me ci porterebbe lontano da quello che è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere io ho una una montagna di cose a cui avrei voluto replicare ma avremo ovviamente modo di farlo nel prossimo appuntamento e prendo già quindi l'impegno di avervi spero molto presto tra qualche mese ospiti qui per la seconda puntata insomma della nostra riflessione per fare anche il primo punto il primo insomma checkpoint del lavoro dell'osservatorio ma vi voglio chiudere con un'immagine evocativa per cercare di non essere indegnamente appunto seduto al fianco di Marco che già ha toccato una citazione secondo me molto pregnante per chiudere l'appuntamento e la faccio condividendo una riflessione della mia antica passione quando ero un bambino mi chiedevano cosa vorrei fare da grande era un bambino un po' particolare che diceva io vorrei fare l'archeologo o il paleontologo erano avevo le idee un po' insomma molto particolari per un bambino di quell'età e vi uso questa metafora 65,6 milioni di anni fa ci fu una delle più grandi estinzioni di massa sul nostro pianeta l'estinzione del Cretaceo un buon 80% 85% delle specie allora esistenti vennero spazzate via da un evento avverso e imprevedibile uno di quegli eventi che oggi chiameremo un cigno nero in quel caso fu un gigantesco asteroide forse frammentatosi in più parti ma sicuramente il nucleo centrale andrò sullo Yucatan che coprì di polvere l'intera atmosfera a un certo punto il mondo non era più quello di prima e che cosa è stata la conseguenza di quell'evento che tutte le specie che erano superiori a 25 kg sono scomparse azzerrate annientate il Covid nel piccolo rappresenta un po' il nostro asteroide in questa metafora chi è sopravvissuto all'epoca? noi i mammiferi quelli che oggi siamo diventati con milioni e milioni di anni di evoluzione noi perché? perché eravamo più flessibili eravamo più adattabili a quel contesto particolarmente avverso e abbiamo saputo sfruttare questa adattabilità poi per continuare il nostro cammino oggi questa metafora dovrebbe insegnarci che un eccesso di rigidità il voler ancorarsi come faceva qualche ministro anche del precedente governo a modelli che sono obsoleti e che non sono più adatti alle esigenze alla realtà del mondo produttivo ma anche dello stesso lavoratore che dovrebbe essere il centro del sistema vuol dire condannarsi al fallimento la realtà il mondo andrà avanti comunque dobbiamo scegliere se vogliamo essere parte di questo cambiamento o ritrovarci tra dieci e quindici anni a contare le vittime del non adattamento e quindi ritrovarci a essere come i triceratopi o i tirannosauri di 65 milioni di anni fa e vi dico di più lo dobbiamo fare e chiudo proprio su questo in un modo veramente pienamente cooperativo quello che diceva anche il professore poco fa perché non possiamo implementare la cultura della corresponsabilizzazione della commissione dei lavoratori all'interno della gestione delle aziende vi faccio un esempio su tutti quando si è fatta la fusione Stellantis tra Fiat e il gruppo Peugeot che cosa è successo? che i lavoratori della Peugeot hanno preteso di avere nel board dell'amministrazione un rappresentante dei lavoratori ma non c'è stato l'ottenimento simmetrico quindi oggi hai uno nel board della Peugeot che rappresenta ai lavoratori francesi dipendenti ma non lo hai di quelli italiani e questo cosa potrebbe comportare a lungo termine che gli uni sono più protetti degli altri faranno valere meglio le loro ragioni avendo un rappresentante e questo potrebbe andare a svantaggio anche qui del paese cambiamo cultura cambiamo paradigma non è ancora troppo tardi e sta a dipendere appunto da noi qual tipo di specie di evoluzione vorremmo costruire all'interno del nostro ecosistema e con l'osservatorio e col mio umile contributo e con quello dei colleghi come Mariangela cercheremo appunto di evitare di essere dalla parte dei dinosauri ma essere piuttosto gli alfieri del mondo dei mammiferi grazie